Salve Oggi live, oggi live, oggi sarò in live davvero Però non riesco a trovare una tier E che cavolo Allora Trovata? Ciao Merino, grazie che l'hai trovata Come si chiama? Fanciulli, benvenuti Grazie, crocrochi, mi cita la sigla di Giorgio Vanni Era un'ottima sigla Ok, ciao Merino Come si chiama? Così la trovo anch'io Perché non ci sto riuscendo L'unica tier list che ho trovato per ora non ha scarlato il violetto Grazie Steven che hai disabilitato dal modello di talenta Effettivamente quella ci può stare Ok Grazie mille Grazie, grazie infinite Allora abbiamo la tier Adesso vedo se me la trova subito Io mi auguro che me la trovi subito Oh Non me l'ha trovata Aspetta, aspetta, aspetta Vediamo Ok, trovata ora Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Perché è sempre lo schermo sbagliato? Ah no, c'era lo schermo giusto Era solo sotto Era solo sotto Allora Penso che non sia necessario farne una sola Quindi la spezziamo in due Che ne dite? Così, così, guardate No, aspetta Qual era il tasto per No Vabbè, duplica Pensavo ci fosse una shortcut Ma niente Mi sa che funziona solo su double shortcut E ci sono troppo abituato Per continuare a fare queste cazzate Ma procediamo Allora Abbiamo davanti a noi Due possibili tier list Qui facciamo quella più oggettiva possibile Qui vi do le mie Ok? Dove in altro ci mettiamo i miei favoriti E Belli belli Gli ok Ho un problema Merda Ce l'abbiamo Mi dicono mette Ginghi come mod Non c'è problema Non c'è problema Effettivamente Ginghi è parecchio tempo Che Dovrei aver fatto Giusto? Sì Perdonatemi Mi sentite tutti bene? Tutto funziona bene? No Non parlerò di Ranger e Mystery Dungeon Sia perché non li ho giocati tutti Mystery Dungeon Sono tanti O meglio Non sono abbastanza E fanno quasi tutti cagare Tranne quelli che tutti quanti conosciamo Allora Partiamo dall'inizio No non partiamo dall'inizio un cazzo Ho trovato Oh manca verde in questa tier Vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Alla fine verde è sempre blu Allora Parliamo di primi giochi Pokémon Allora Se dobbiamo parlare per me Belli belli Cioè davvero Per i miei gusti personali Grazie Ricky per l'abbonamento È una cosa fantastica Cioè vi rendete conto che Questi sono stati i primissimi giochi Pokémon di sempre E hanno conquistato tutto il mondo Qualcosa di buono ce lo dovevano avere Secondo me la cosa di buona che hanno È proprio il fatto che Oh mamma mia Avevano tre pixel Non erano nemmeno colori Cioè Guardateli Guardateli Allora Ok mi esce di tutto Perché anche due personaggi Si chiamano rosso e blu Ma ci rendiamo conto che Questa scena è in bianco e nero Con quattro pixel in croce Era gestito di merda il Game Boy Ed era un gioco tremendo Che usava quattro cose in croce Fatte malissimo Eppure è riuscito ad affezionarci tutti Queste descrizioni sono riuscite Cioè Rendiamoci conto che questo Non solo è stato il primo gioco Con un sacco di cose che fa Se le inventate da zero Ma a me piace un sacco questa estetica Perché aveva uno stile Riconoscibile Uno stile a cui mi sono affezionato Quindi per me Stanno assolutamente in alto Ma in realtà Sti giochi fanno un po' cagare Cioè Sì Ecco Ecco Ammettiamolo Ce l'hanno un problema Ma ai tempi Era rivoluzionario Come genere di gioco Ma non come capacità di programmazione Cioè Non hanno mai avuto Questa gran grafica o altro A me Fa male al cuore Ammettere Che facciano Tutto sommato schifo Però Ragazzi Sono invecchiati malissimo Un sacco di roba Era complicata Inutilmente complicata Tu non avevi La gestione dei pokemon Era terribile Tu non sapevi mai Se l'attacco sarebbe stato Super efficace Non molto efficace Eccetera Era tutto un po' casuale Ogni tanto qualche mossa Mi diceva Non ha alcun effetto Sì Ok In che senso No Non ha alcun effetto Cerco di colpire di nuovo E mi dice Ah E' super efficace Ma che diamine Era un idropompa Contro un pokemon Di tipo erba Non puoi dirmi Che è super efficace Due tier list Perché qui Tocchiamo L'argomento Miei personali Mio favorito Qui è proprio Oggettivamente Oggettivamente Ok Volete un nome Per le categorie oggettive Allora Qui in fondo Ci mettiamo il Ma che l'hanno fatto affare Poco sopra C'è il Ok ma no Poi c'è il Standard E poi c'è il Buon gioco Ok Chi è The blacksmith Chi è contro Il pokeflauto Chi è contro il pokeflauto Chi ti ha fatto di male Il pokeflauto È più che valido Ed è una donna Come chiunque altro Ok Ora E non c'è molto da dire Quando parti dalla base Perché sono i primi giochi Tanto li ricommentiamo Quando devo dire Ok questo è meglio Questo è peggio Ora Io sono partito Con la prima generazione La seconda generazione L'ho recuperata tardissimo E io ho giocato I giochi di seconda generazione Mi pare nel 2009 Sì Oh Laila Grazie per il futuro abbonamento Allora Però Sì ecco Penso che Oro e argento Siano proprio Minchia Hanno fatto Un lavorone Incredibile È uno di quei Sequel Che Mamma mia Guarda Forse ti direi Che li abbasso Appena appena Giusto per dire Ok Potevano ancora essere migliorati Lo ammettiamo Ma Mamma mia Che lavoro Pazzesco Hanno fatto Che lavoro Pazzesco Hanno fatto Io non ho parole Non ho parole Allora Che hanno Hanno tutto il gioco Della prima generazione Ce l'hanno tutto È già presente Ma Ci hanno Ci hanno aggiunto Un'altra regione Ci hanno aggiunto Più Pokémon Ci hanno aggiunto I colori Miglioramenti grafici Più lore Questa è la generazione Che si è inventata Finalmente Di mettere in copertina I Pokémon Leggendari E raccontarmi Una storia più interessante Ha un sacco di idee innovative Cerca di darmi un passato A un gioco Che in realtà Era molto contemporaneo Cioè Personalmente Io gioco più volentieri Alla prima generazione Che gli originali Oro e Argento Non trovo Argento Dov'è Argento? Qua Argento Mi dispiace Personalmente Mi colpisce di più La prima generazione Che i normali Oro e Argento Però Ragazzi L'unica cosa brutta Di questi giochi Era la trama Questa è Più oggettiva Questa è la mia soggettiva Questa è tutta mia opinione Personale Che può tranquillamente Essere contestata Questa Datemi voi Anche quello che pensate Cioè Ditemi voi Se siete d'accordo O no Se sto Se sto essendo troppo O se sto essendo troppo Però Wow Wow Anche se Cristallo Scusatemi Ma Cristallo Ha spaccato Completamente Questi due giochi Dicendo Ma si Bastavano queste due migliorie Per renderli perfetti Cristallo Cristallo per me È uno dei giochi Migliori Che siano mai usciti E lo è anche All'interno Della mia Personale Tierlist Cioè Cristallo È davvero Fantastico Fantastico Sì Di nuovo Forse abbasserei Un po' Cristallo Ma Poi vi spiego Il perché Che fa Cristallo Allora Cristallo È come Oro e Argento Ma aggiunge Tutta una serie Di dettagli In più Aggiunge alcune nuove aree Della mappa Mette le animazioni E i pokemon Che poi nella generazione Successiva Han tolto Aggiunge la possibilità Di interpretare Un personaggio femminile Per la prima volta Nella storia Ammigliora Alcuni enigmi Cambia graficamente Alcune cose Ridisegna Alcuni pokemon Prendete per esempio Raykow Ora Voi Ve lo ricordate Così Raykow Tutti ce lo ricordiamo Così Raykow Ma Raykow Non era così In oro e argento Ragazzi Cioè Raykow Era così In oro e argento Attenzione Non sto parlando Delle versioni beta Perché questa È la versione beta E questa È la versione beta Più recente Ma questa Era ufficiale Cioè Questo design Di Raykow Era quello Di oro e argento Era fottutamente Fatto così E non dal tipo Vabbè ma all'inizio Poi l'hancorre No 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 Tutt'oggi Se giocate oro e argento È fatto così Raykow Il Raykow Che tutti conosciamo L'ha inventato Cristallo Ma non finisce lì Non finisce lì Prendiamo Sneasel Ora Sneasel Noi tutti quanti Lo ricordiamo così Tranne le nuove generazioni Che hanno giocato solamente A Arceus Che vabbè Però Tutti lo ricordiamo così Questo è Sneasel Ok Se andiamo a prendere Anche un Disegno più vecchio Tipo questo Beh questo Era Sneasel Durante la seconda generazione E questa Era l'artwork Di Sneasel All'interno Di cristallo No Scusatemi Ho avuto Un lapsus Gigantesco Questo L'ha fatto Dottor Lava Ne parliamo dopo Questo è quello Che ha fatto Questo era quello Di seconda generazione Questo Non è lo shiny Cioè in realtà Questo è effettivamente Lo shiny Però Ci arriviamo In oro e argento Sneasel Non era questo Questo è il beta Ma era questo Era lui E sono sicuro Che Vabbè Dobbiamo contentarci di questo Che ha alterato un po' troppo i colori Secondo me Però Questo era Sneasel All'interno di oro e argento Hanno corretto Tante di quella roba In oro e argento Hanno creato Un nuovo standard Di pokemon Hanno cambiato pure Meganium Meganium Ok Ve lo ricordate Meganium Perché tutti ci ricordiamo Meganium Fatto così Perché nel cartone animato E in cristallo Meganium era fatto così Ma Non era così Era così Il nuovo design Questo qui È arrivato con cristallo Ma era così Meganium Cioè Mamma mia Ma Scusa Di Garokuro Se ti faccio sentire vecchia L'hanno rivoluzionato Cristallo è davvero Un gioco fantastico Ha aggiunto Una trama in più Ha Ha Aggiunto Un sacco di dettagli E poi La seconda generazione È molto giapponese Ha tutta questa Grandissima ambientazione Fatta di Foreste Edifici di legno E Geish Anche quando entri Negli ambienti naturali Comunque Sono sempre molto giapponesi Cosa c'è di più De giapponese Delle isole vorticose Che Tra l'altro Sono le isole Di Nauto Giusto O di Naruto Non mi ricordo Cioè c'è Questo gruppo di isole Che effettivamente Ha dei vortici Ha un problema Di vortici Cioè Incredibile La seconda generazione Ha fatto una cosa pazzesca È uno dei pochi sequel Che hanno migliorato L'originale Perché vi ricordo Che la seconda generazione È un sequel diretto Della prima Allora Poi abbiamo La terza generazione Se dobbiamo parlare Di terza generazione Mi dispiace Ma la terza generazione Mi ha colpito nel cuore Però attenti Sì Sì Per me c'è uno scarto enorme Tra Chiogra e Grodon Ma non del tipo No preferisco Chiogra Per me hanno fatto Un lavoro di merda Con Rubino Ok Hanno fatto un lavoro Di merda Con Rubino Io vi voglio Tanto bene Ma 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 Allora Questa è la regione Di Hun È la regione In cui è ambientato Il gioco Ok Come vedete Ha un serio problema Di quantità d'acqua Metà regione Cioè tu tracci una linea E metà regione È acqua Vi ricordo che questa è tutta Acqua esplorabile Che è un surf E ci sono pure Delle isole extra Che tu puoi esplorare Solo con la nave Mamma mia Pazzesco Ora In questo punto Della regione Come vedete Ci troviamo in acqua C'è acqua E basta È segnata Leggermente più Scura Rispetto al resto Della regione Perché perché qui ci sono i grandi abissi oceanici E in fondo agli abissi oceanici Tu dirai E ci vive Chiogre No No Nella versione Rubino Ci vive Groudon Il creatore della lava Ma perché non l'avete messo nel vulcano Avete un vulcano in questa regione Mettetelo lì Perché l'avete messo in acqua Ma Dio mio Grazie Corocoro che ha notato la citazione Sperando che l'abbia notata davvero Cioè Ma Perché in acqua Infatti C'è chi ha giocato solamente a Smeraldo Chi dirà Ma no Ma Groudon si trova No L'han corretta in Smeraldo sta cosa In Smeraldo Han detto Ma no Mettiamolo nel cazzo di vulcano Perché è il pokemon dei vulcani Ma in Rubino È in acqua Infatti io Cioè Io avevo giocato solamente a A Zaffiro Io sono rimasto sconvolto Quando ho parlato con una mia amica Che ha giocato a Rubino Ha detto No Ma com'è il tuo piano del team magma Perché il mio piano del team idro è Rubiamo questa Questa meteora La portiamo sul vulcano Va bene Ma poi Cambiamo completamente idea Invadiamo Il museo oceanografico Rubiamo un sottomarino E andiamo nelle profondità oceaniche Per risvegliare Chiogre E una volta che risvegli Chiogre Piove in tutto il mondo E lei mi dice Eh Nella mia versione Il team magma Che vuole risvegliare il dio della terra Va nel museo oceanografico Ruba un sottomarino Ruba un sottomarino E alla fine risveglia Grosona E datemi voi conferma Se avete giocato a Rubino Ma Si mette pure a piovere Vi prego Ditemi che quantomeno c'è il sole Anziché piovere Ma dio mio Come Ma che cazzo ci ha pensato Che poi in tutto ciò Io ho capito Che quella di Rubino È pure la versione alfa Quella di Rubino È pure la versione alfa Quindi loro hanno programmato Rubino Per poi alterarlo Per creare una copia Chiamata Zaffiro Ma sono deficienti Ok mi confermano che c'è il sole Cioè quindi No no ragazzi Cioè Lo stesso gioco Ma c'è sta stronzata Non posso accettarlo Parlando a livello oggettivo Eh Temo Temo Che siano dei giochi molto standard Hanno sì delle idee molto geniali Idee che io trovo davvero geniali Rubino e Zaffiro L'inserimento delle gare Pokémon Mamma mia Meravigliose Meravigliose Hanno Pensato una nuova generazione Completamente diversa Da quelle precedenti Con uno stile nuovo Ma senza imitarle Vero quinta generazione Hanno creato un ambiente Molto immersivo Però al tempo stesso Abbiamo anche Un piano di merda Di malvagio Perché il piano di malvagio è Mi piace l'acqua Voglio più acqua No 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 Cioè il piano del team magma Quasi lo posso capire Perché parte del piano è Avremo più terra Su cui edificare Ma il piano del team idro Cioè non ti citano l'Africa Dicendo No vogliamo dissetare la gente No no Loro vogliono aumentare l'acqua salata Perché dicono così Ci saranno più zone di villeggiatura Sì ma la gente muore Goblin dice Sì sì anche abbastanza lineare Allora la gente Lasciavano più libertà No In fatto di quantità di libertà Allora Per chi non lo sapesse I primi giochi pokemon Ti costringevano a fare Questa sorta di tutorial Per le prime due palestre Quindi Brock Misty Ve lo faccio vedere con una mappa Che bello Che scrivendo Canto dall'Italia Ti uscirà sempre La regione di canto Ma è quella del Giappone Perché questa è l'ambientazione Però Prendiamo una mappa di verde foglio Rosso fuoco Tu parti in questa città Ok Ora Tu non puoi andare dall'altra parte Perché c'è l'acqua E non puoi andare a sinistra Perché c'è un tizio Che ti blocca Dicendoti no Solo chi ha le medaglie Può passare Quindi sei costretto Ad andare verso l'alto Perché non c'è altra strada Ora Qui c'è una palestra Brock Dopodiché Ti dicono Ok Ora devi andare All'unica altra palestra Quella di Celestopoli Poi una volta Arrivato a Celestopoli Tu puoi esplorare La regione come vuoi L'unica regola È che l'ultima palestra Deve essere per forza Quella di Giovanni Ma per il resto Puoi esplorarla come vuoi Ci sono un paio di costrizioni Quindi finché Tu non hai preso La medaglia di Mi pare Koga Non puoi prendere La medaglia di Blaine Però tu puoi prenderle Per ultime Come puoi prenderle Per prime C'è la medaglia Del generale Serge Che ti mette un po' In difficoltà Perché se non hai preso Taglio tramite scambio Tu non puoi utilizzarlo ancora Però potenzialmente Tu puoi girare Quanto vuoi per la regione Sei libero Però a parte le prime due palestre Sei libero Ok? Poi Poi Prendiamo la regione di Giotto Seconda generazione Qui c'è la cittadina Ti costringono Ad andare dritto Fino alla prima palestra A Violapoli Che è qua Una volta che hai fatto La palestra di Violapoli Visto che c'è Il percorso bloccato Da su dovuto Devi scendere per forza Fino ad Azzalina Quindi seconda medaglia Di nuovo costretta E terza medaglia Di nuovo costretta Dopodiché sei libero Una volta che hai fatto La terza medaglia A Fiordoropoli Puoi sbloccare Questo cazzo di su dovuto E da quel momento in poi Sei libero di andare Nella regione come vuoi L'unica regola È che l'ultima palestra Deve essere l'ultima Se non sbaglio O forse no Forse addirittura Anche l'ultima Può essere invertita Confermatemi Voi potreste anche Lasciare da parte Furio Prima di affrontare Sandra? Mi pare di sì Mi pare di sì Come fai a ricordarti Così bene i giochi? Ma io lo adoro Lo adoro Ma quindi c'era Level scaling? No non c'era Semplicemente Il sistema di aumento Di livelli Nelle prime due generazioni Era gestito un po' male Ma quel che succedeva Che una volta Che tu arrivavi Più o meno A livello 30 Non riuscivi più a crescere Tu potevi affrontare Tutti i pokemon che volevi E ci impiegavi Una vita Ad arrivare al 50 E quindi potevano infilarti Quattro palestre Tutte di seguito Sì Puoi ignorare Furio Ok Perfetto Quindi potenzialmente Tu puoi affrontarle Davvero nell'ordine che vuoi Anche l'ultima Senza problemi Però le prime tre Ti ha costretto Nella scorsa generazione Era le prime due Qui le prime tre Si è costretto Poi Tiriamo fuori Hön Ci sta che mi diciate No è un pochetto Più complicata Però Però Ammettiamolo Il gioco ti costringe Ad affrontare La prima medaglia A Ferrugipoli Che è questa città Quindi ti costringe A fare questo giro Perché sei bloccato Poi una volta che l'hai affrontata Sei libero Fine Tu Sei costretto Ad andare sull'isola Di Bluruvia Ma nessuno ti costringe Ad affrontare Nessun capopalestra Tu puoi anche andare Dritto da Rocco Consegnargli la lettera E poi andare via Nessuno ti dice Ad affrontare la palestra Sta lì Se la vuoi affrontare bene Altrimenti vai avanti La regola qui È che tu Tu Devi affrontare Per forza Quattro palestre Prima di poter Sbloccare Surf Quindi Devi affrontare Quattro palestre Poi la quinta Sarà quella di Petalipoli Che è qua Che è quella che Vivi incontrato per prima In realtà Ma non potevi affrontarla Questa L'affronti per quinta Per forza E una volta che hai affrontato Questa per quinta Tornano ad essere costretti Quindi fondamentalmente Tu Sei libero Già dalla prima palestra Una volta che hai fatto La prima palestra Sei già libero Però Vieni di nuovo Costretto alla quinta Quindi Sesta Settima Ottava Sono costretti In quell'ordine E quando mi dice Sono più subbinari Sì Ok Ma la prossima generazione Non puoi cambiare Neanche una cazzo di palestra In Diamante e Perra Che sono i giochi successivi Tu non puoi cambiare Una palestra Che sia una Ma manco per scherzo E no Questo mi dà Un sacco fastidio Mi dice Ciclamipoli obbligatoria Perché serve Spaccaroccia Se non sbaglio Touche Touche Sei costretto ad affrontare Quella di Ciclamipoli Però non sei costretto Ad aver affrontato Quella di Rudy Quindi sì Effettivamente C'è una costrizione in più È vero È vero È vero È vero In difesa di nuovo Della terza generazione Però comunque La regione L'esploria Nell'ordine che vuoi Sei costretto ad affrontare Alcuni capi palestra Ma per esempio Una volta che tu hai surf Tu puoi andare in tutta la regione Senza problemi Puoi raggiungere anche la Lega E nessuno ti ferma Semplicemente Non lo puoi affrontare Perché non hai ancora Le palestre necessarie E cascata Però sì ecco Questi due giochi Secondo me sono abbastanza Gli standard di Pokémon Sono buoni i giochi Cioè li apprezzo Penso che qualitativamente Siano validi Ma anche che siano Lo sforzo fondamentale Cioè un gioco Per essere un buon gioco Di Pokémon Deve essere bello Almeno Quanto Quelli di Chiogra e Groudon Quelli di terza generazione Rubino e Zaffiro Dopo Rubino e Zaffiro Hanno detto Ma sa cosa Visto che Uno dei grossi difetti Di Rubino e Zaffiro Io ricordo che I tempi erano Tutti Incazzati Ragazzi Quando è uscita La terza generazione Erano tutti Furiosi Perché Perché non erano Compatibili con i giochi Più vecchi I Pokémon Che con Kuturi Cresciuto con la prima generazione Le vi portate Nei giochi di seconda E non potevi portarli In quelli di terza Uff Che male Al cuore Che male Al cuore Grazie a Firebolt Per l'abbonamento Di nuovo Grazie mille Sto parlando Dei giochi originali In tutto ciò Sempre Ikeru Kroi dice Confermo Ero incazzata nera Sì sì Se Non c'era Una persona felice C'erano Alcune critiche Che venivano mosse A questi nuovi giochi Ma fondamentalmente Perché continui a dire Fondamentalmente Ma in breve Tutti dicevano Perché non possono Comunicare Con i giochi più vecchi Ma che cazzo è sta cosa Ma per favore E quindi Si sono dati Vabbè Dobbiamo fare qualcosa Perché tu posso Ottenere i vecchi Pokémon E quindi hanno creato Verde foglie Rosso fuoco Ovvero remake Di rosso e blu In realtà di rosso e verde Però Blu e verde Sono praticamente Lo stesso gioco Le differenze Tra verde e blu Sono piccole differenze Grafiche Vediamo se c'è Un'immagine Che le mostra Sì Grazie Manuale per daltonici È vero Però sì Ci sono Leggerissime Differenze Grafiche Vabbè Alcune sono Differenze Nel design Di Pokémon Ci sta In Pokémon Hanno subito Un redesign Ma succedeva In quasi Tutti i giochi Ma c'è Qualche differenza Anche nei cartelli Nel modo in cui È disegnata La mappa Ci sono Piccole Ecco Per esempio Questa In verde Mewtwo è qui In blu Mewtwo è qua Il labirinto È diverso Cioè Tutte cose Dal genere È un casino Proprio Ci sono piccole Differenze nel gioco Differenze che nemmeno noti Ma ci sono Sta di fatto Che hanno fatto Remake di verde Anziché farlo di blu Ci sta Perfettamente Perché erano i primissimi giochi E mi ha dato l'opportunità Di avere verde A livello di quanto Mi sono piaciuti A livello di quanto Mi sono piaciuti E Mi dicono dalla regia Che in diamante Perle e pratom Può scambiare Terza e quarta palestra Aspetta Anche in platino Perché platino Ricordo che c'era Un problemino in più Però Avete ragione Pokémon giallo Scusatemi Non l'ho fatto Pokémon giallo Scusatemi Allora Recuperiamo giallo Prima di commentare I remake Giallo effettivamente È un Ok ma no Come gli altri Cioè Hanno cercato Di migliorare Gli altri giochi Dicendo vabbè Adesso li facciamo Più simile al cartone Animato Quindi all'inizio Tu ricevi un Pikachu C'è il Team Rocket Nel senso proprio di Jesse James Che ti danno fastidio Però è chiaramente Lo stesso gioco di prima Ma con due linee di dialogo In più Ci sono dei colori In più Quando lo giochi Nella versione a colori Ma a parte quello È bellissimo il sistema In cui funziona Pikachu Sono bellissimi Sono bellissimi mini giochi Di Pikachu Ma finiscono anche lì L'ho trovata davvero Sullo stesso livello Non basta per dirmi Ok questo è proprio Un gioco standard È un po' Un sottotono Perché stavano ancora Sperimentando E perché non hanno fatto Davvero un grande sforzo Volevano solo accontentare Le persone che adoravano Il cartone animato E sappiate Se non avete mai giocato Un gioco Pokémon Sappiate che Pikachu È un topo di merda Non è Niente di speciale Non che ci sia molto Da discutere Perché comunque È un bellissimo Pokémon Ma Pikachu È un ratto di merda A caso E infatti La battuta Nel cartone animato Era che Ash Lo riceveva Perché era la cavia Da laboratorio Del professore Che diceva Vabbè Non ti posso dare uno starter Allora ti do Sto rato Su cui faccio gli esperimenti Solo che a un brutto carattere Non ci riesco Non si fa trattare Tutto lì Non c'è altro Questo era il punto Il caro creo Che dice A livello oggettivo Era pari Infatti Cuore un pezzettino sopra Per me invece Più o meno Sta lì Ma Ho un problema Questo è un mio problema Personalissimo Comprendo che molte persone Possano un piacere Ma io Ho un gigantesco problema Con giallo Dove cazzo è MEO Dove è MEO Tu non mi puoi fare Jesse James E basta Dove è MEO Ma Ma scusami Cioè Dio mio Il caro che dice MEO in prima generazione Era solo in blu Sì ok Va bene Ma MEO non c'è Non parla Non dice una parola Non hanno messo MEO Nel cazzo di gioco Loro non lo usano Nemmeno per lottare Né altro Sì era una special edition Per l'anime Tant'è vero che Giallo viene chiamato Davvero special edition Vediamo Mi pare che ci fosse Proprio scritto Che fosse un'edizione speciale Non un'edizione normale Ecco infatti Speciale edizione Pikachu Pokémon versione gialla Speciale edizione Pikachu Niente da aggiungere Ok Proprio Sì sì era proprio Edizione speciale Dell'anime E basta Tant'è vero che Proprio la grafica Era tutta diversa Avevano pensato Un sacco di cose Solo per l'anime Questa era la grafica Normale di rosso E di blu E questo invece Era giallo Tu avevi Pikachu Che ti seguiva In tutto il gioco E potevi interagirci Ogni tanto Mi pare che non fossi Nemmeno costretto A tenerlo in squadra Però reagiva A quello che succedeva Sullo schermo Gesù dice Ma sei ancora lì È successo qualcosa No Gesù La live di stanotte Era una replica Ora sto bene Quindi mi son detto Facciamola una live Perché non ho voglia Di fare video Infatti I remake Cioè infatti Let's go Sono un remake di giallo Ma questo Non è neanche un Vengono considerati da È così Sono remake di giallo Sotto ogni punto di vista Solo che hanno aggiunto a giallo Al fatto di Facciamo Stringiamo l'occhiolino all'anime Lo stringiamo l'occhiolino A A chi ha giocato a Pokemon Go Ora Parlavamo dei remake Verde foglio Rosso fuoco Io li ho adorati Li ho adorati Perché si respirava perfettamente L'atmosfera Dei primissimi giochi Perché hanno mantenuto La stessa colonna sonora E tutto il resto Ma Hanno anche strizzato l'occhio La seconda generazione Mettendomi un'intera nuova regione Io stavo esplodendo In quel punto Stavo esplodendo Mai in vita mia Mi sarei aspettato Una seconda regione Ma ci sono due regioni In verde foglio e rosso fuoco Ok Mamma mia Così si fa un remake Hanno aggiunto Tutte le cose Che servevano per migliorare Verde foglio e rosso Per migliorare Rosso e verde L'hanno migliorato Sotto ogni punto di vista Non c'è una sola cosa Che io preferissi Nel vecchio gioco Rispetto a quello nuovo Neanche una Vi giuro Neanche una Hanno fatto un ottimo lavoro Secondo me Niente da dire Hanno solo apportato Miglioramenti Le uniche due cose Che potevano migliorare Ancora di più La situazione Erano aggiungere Il ciclo giorno-notte Che però Non c'era neanche Negli altri giochi di terza E aggiungere Un po' di Di clima Perché Scusami Fai i giochi Che per la prima volta Inseriscono il clima In Prima di Rubino e Zaffiro Non c'era il clima C'era solo Il sole Giorno e notte In Rubino e Zaffiro Hanno fatto in modo Che potesse piovere Nevicare Eserci tuoni Fulmini Piovere bello leggero Pioviginare appena E tu mi fai Verde foglio rosso fuoco Ed è sempre sole Non mi metti un'area In cui piove Ma nemmeno nel settipelago Se non vuoi alterare canto Ti sei inventato Una regione apposta E non mi fai piovere Da nessuna parte Allora Come dicevamo Come dicevamo Verde foglio rosso fuoco Per me sono dei Sì Quelli che hanno solamente Migliorato l'originale Vi direi Che Sì ecco Sì 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 Io ho apprezzato anche alcuni tentativi in più Che hanno fatto Come il fatto di cercare di fare un Pokédex diverso Cioè che va per aree E non per numero Tante cose di questo tipo Sì Ieri stavo male Ho fatto la replica Perché volevo semplicemente farvela vedere Ma poi mi sono addormentato E quindi ho L'ho rifatto da capo Ci sono due liste Perché questa è più oggettivamente Questo è il mio favorito Ora Passiamo al prossimo gioco Smeraldo È Perfetto È tutto quello che io voglio Da un gioco Pokémon Già la terza generazione Mi era piaciuto un sacco Per Zaffiro Perché era Magnifica Un'ottima ambientazione Molto naturale Molto immersiva Bellissima colonna sonora Un sacco di Di trombe Mamma mia Che poi in tutto ciò Smeraldo è stato particolare Anche per un altro motivo Abbastanza evidente I primi tuoi che stronzo Cosa? Non ho capito Eh? Solo il parcolotta Vale 12 punti Ma sul serio Hanno inserito Per la primissima volta Il parcolotta Alla fine del gioco Che è un'area extra Cioè Ve lo mostro In inglese In inglese Ragazzi Allora questo era il parcolotta Di Smeraldo Era un'area gigantesca Gigantesca In cui c'erano Queste Questi sette edifici In cui affrontare In ognuno Le lotte In modo diverso Una volta che tu avevi finito Di battere la Lega Cosa ho sentito? A che cosa sono allergico adesso Che cappare di notte? Dio mio Sento che è proprio Un attacco di allergia Ma non so di che tipo Due tier perché Una è oggettiva L'altra no Allora Davvero Smeraldo Ha inserito questa cosa Che cambiava completamente Le carte in regola Le carte in gioco Cosa sto dicendo? Sto parlando malissimo Però Smeraldo ha cambiato tutto Smeraldo è stato Una perla Ha cambiato la storia Di Chiogre Grodon Ha spostato I due Pokémon Nel posto giusto Ha ingigantito La regione di Heon Che era già gigantesca Ai tempi era Da sola La regione più grande Che avessero mai fatto Han detto Ma no Facciamolo ancora più grande Hanno messo un pezzo Di settipelago Hanno messo Il parco lotta Hanno aggiunto altri piccoli luoghi Nascosti Quella Tipo Che ne so La grotta mutevole Davvero Un lavoraccio pazzesco In ognuno di questi edifici C'era uno stile di lotta Del tutto diverso Che oggi non abbiamo più visto Cioè Quando mai Ci è ricapitato Di vedere cose come Il dojo lotto Ovvero la lotta a tempo E vince chi fa più danni all'altro Entro il limite di tempo Ma se il Pokémon si cura In realtà tutto è Dio mio E la gara è riuscire ad arrivare All'ultimo secondo E riuscire ad aver fatto Più danni all'altro Oppure il palazzo lotto Dove scelgono i Pokémon Che posso usare Cioè Mamma mia Mamma mia Guarudabashi Mi dice che la grotta mutevole Purtroppo era inutile Effettivamente sì È stata inutile Per noi europei Perché non hanno mai venduto L'e-Reader Ma per chi non lo sapesse Oh già L'e-Reader Era questa cosa Che tu potevi acquistare Da inserire all'interno Del tuo Game Boy Era ufficialissimo Tra l'altro E ti permetteva Di leggere le carte Che trovavi Le carte che uscivano In quegli anni Avevano delle bande Per il lettore Anche qui Vedete Durante la terza generazione E alla fine della seconda Avevano delle bande Per permettere al gioco Di leggere Le carte Pokémon Tipo Amiibo E quindi che succedeva Che c'era la grotta mutevole Che venne inserita solamente in smeraldo O meglio in realtà C'era anche in verde foglio rosso fuoco Ma venne inserita in smeraldo Aveva questo aspetto da dentro Volevo farvelo vedere pure da fuori Perché c'è chi è ancora sconvolto Da sta cosa Io avrei voluto Che me la rimettessero Nei remake Però sta di fatto Che la grotta mutevole Era sto posto incredibile In cui apparivano i Pokémon Che tu trovavi nelle carte Era geniale Cioè geniale Però di ridere appunto Non è mai uscito in Europa Comunque il concetto è che Sì erano Era un ottimo gioco Ma Per me smeraldo È un buon gioco Ma non è proprio Nella top di Pokémon Secondo me è sopra lo standard Fa quello sforzo In più di essere sopra lo standard Però 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 Ma la grotta di Rage È in Braille? Sì Sì Mirai Magma C'è altra cosa Che io adoravo All'interno di Rubino Zaffero e Smeraldo Hanno messo davvero Dei misteri nel gioco E che tu hai bisogno Di conoscere cose Che si trovano fuori dal gioco Per comprenderle E tra l'altro Il tutto cercando Di fare un po' Di sensibilizzazione Sul mondo Dei ciechi E degli ipovedenti Mamma mia Mi è arrivato Quello che potrebbe essere Un bellissimo Una bellissima notizia Sul progetto segreto Ma io non vi dirò nulla Ok? Mi è arrivata una notifica Sì Nella scatola dei giochi Nell'ultima pagina Del manuale C'era anche La spiegazione di Braille E c'era anche scritto Tra l'altro Facci caso Li troverai di sicuro Nella tua città Io Non avevo capito Perché non ti dè Che ti diceva Il linguaggio per i ciechi Mi dicevano Mi dicevano solamente Li troverai da qualche parte Nella tua città Ora Come sapete Io abitavo in un paesino Di montagna Secondo voi i Braille C'erano? C'erano Io vi giuro Sono impazzito Quando me ne sono accorto Perché quando me ne sono accorto Io pensavo Fosse uno scherzo Vi racconto Questo brevissimo aneddoto Allora Allora Io Ero sconvolto Dal fatto che A un certo punto Andando a vedere All'interno del manuale Di Pokémon Avevo trovato Questa pagina In cui c'erano tutti i Braille Ma non sapevo Che cosa fossero A che cosa servissero Ho impiegato Una vita Prima di passare Proprio per quel punto Della mappa E dire Oh mio dio Ma qui c'è una grotta Dico Non mi ero mai accorto Che cosa c'è all'interno Entro e scopro Che all'interno Dio Mio C'erano dei Braille Oh mio dio Li posso tradurre Però appunto C'era sta scritta Che io non avevo capito Che diceva Le troverai ovunque Nella tua città Però io vivevo In un paesino di montagna In città Non ci andavo mai Quelle uniche volte In cui andavo in città Non li notavo Da nessuna parte Alla fine li ho trovati Nel mio paesino Dove Voi immaginate Quanto io mi sia sentito Confuso Perché era una cosa Che io pensavo Che se la fosse inventata Pokémon Nel linguaggio Braille Pensavo fosse uno scherzo Come quello degli Annon Per prendersi il gioco di noi E farci leggere Qualcosa di difficile E Io a un certo punto Scusate L'allergia mi sta colpendo Fatto A un certo punto Prendo le pastiglie Di mio nonno E mi accorgo Che ci sono I puntini Che Salgono in superficie Sul momento Mi dico Vabbè ma sarà un difetto Di fabbricazione Ma Strano Sono sei punti E tiro fuori Il mio manuale Di Pokémon Inizio a dire Cioè Il mio primo pensiero Avevo Boh Nove anni Il mio primo pensiero È stato Vuoi vedere Che Pokémon Ha trovato un modo Per costringersi A spungere la gente A mettere Dei messaggi Nascosti Sulle Scatole Della Cittirizzina E nulla Alla fine Ho scoperto Che no Era il linguaggio Dei ciechi Però si Rende tutto più magico E infatti Io spero Che tornino a fare Queste cose Perché sono bellissime Sono bellissime Niente che dice Stessa cosa Ma le ho scoperte Vicino ai tasti Dell'ascensore Ecco infatti Mamma mia Che bello Che bello Poi Giochi successivi Sono stati Diamante e Perla Ragazzi Mi spiace Ma Diamante e Perla Sono proprio Giochi standard Standard Di Pokémon Non hanno niente Che li renda particolari Sono semplicemente Una versione Migliorata Di Rubino e Zaffiro C'erano le gare Le han fatte meglio C'era una grafica L'han fatta meglio C'erano alcune limitazioni Le hanno levate Quindi ad ora in poi C'è anche l'effetto Delle nuvole Quando tu entri All'interno Di una foresta Ti dà l'impressione Di avere la luce Che passa tra gli alberi Cosa del genere Ma è quello È quello Perché ho detto Cioè erano Pazzeschi Per la lore Inserivano Tantissima lore Però al tempo stesso È un normale gioco Cioè Questi qui Sono in alto Perché Se io li recupero Oggi Sono giochi Che effettivamente Mi fan dire Oh C'è un ragazzino A caso Che riesce A sopportare I ritmi E lo stile Dei vecchi giochi Sto ricevendo Un sacco di messaggi Non vorrei che stesse Succedendo qualcosa Di interessante Per il progetto segreto Davvero E tu mi dici Però in diamante Per tutta la regione Sotterranea È quello che ci puoi fare dentro Ma sì È bellissimo Però Quella cosa È un'evoluzione Di quello che già c'era Nella terza generazione Ha non solo cercato Di migliorare il gioco Di per sé Ma non penso Che sia poi così speciale Sto gioco Si è rigiocato Al giorno d'oggi Tant'è vero Che infatti Io quando ho visto di mante lucente Perla splendente Come remake Sono rimasto Un attimino Confuso Aspetta Procediamo Il prossimo È Platino Platino Secondo me Ha fatto Quello sforzettino In più Che salva il gioco Sia perché L'antagonista Non ha più Il piano del semplice Noi vogliamo rimuovere Le emozioni Perché le emozioni Ci fanno soffrire In Platino Si fa quello sforzo In più E si dice No E no Non è semplicemente Le emozioni Ci fanno soffrire Siamo tutti tristi E dispiaciuti Ma diventa un Io voglio diventare Il dio di un nuovo universo Perché se l'universo Lo creo io Con la tecnologia Del nostro universo Allora in quell'universo Io sarò un dio Mi è migliorato il gioco Mi è migliorato il gioco Che poi Ci rimette comunque La roba che aveva detto In diamante perro Ovvero Nel mio universo Una cosa che voglio È fare in modo Che le emozioni Non siano mai giustificate Però Minchia Poi il mondo distorto È stata una cosa pazzesca Cioè ragazzi Il mondo distorto Non l'ha conosciuto Nessuno di voi Vero Però Sì Era questa meraviglia Era Questo portale Che si apriva Sulla cima Del monte Corona E quindi Entravi in questo mondo Dove tutto è sospeso E a volte Puoi camminare A testa in giù Tutto diventava Stranissimo Nessuna legge Della fisica Aveva più un senso Mamma mia Una cosa pazzesca Davvero Una cosa pazzesca Era Estremamente immersivo Estremamente affascinante Inquietante Spaventoso L'ho adorato L'ho davvero adorato L'ho adorato E penso che appunto Sia un gioco Che Ce l'ha Ha fatto con lo sforzo in più Ha fatto quel palzo Riuscendo a diventare Qualcosa di speciale Che bello Davvero Che bello Poi Se dobbiamo parlare Delle mie personali opinioni Non ho ancora messo Neanche diamante perla Bravissimo Enrico Perché stanno lì sotto Allora Io non ho per nulla apprezzato La regione troppo montagnosa Non è per un mio astio Verso le montagne E che è fottutamente Tutta montagna Andiamo a prendere La regione Che avevamo appena avuto Ok Certo Faccio il tifo per Quella che in realtà È stata la mia preferita Però Allora Prendiamo la regione di Hen Ok Deserto Vulcano Foresta Foresta addirittura A un livello Che ci sono le case Costruite sulla foresta Un gigantesco canyon Ricoperto di cenere Una città Molto Grande per i tempi Un'isola Ispirata a Santorini Che in realtà È un vulcano Spento Che si trova in acqua Che è stato riempito D'acqua E sulle cui coste Bianche Hanno costruito Delle case bianche Orocea Una città Costruita letteralmente Sull'acqua E galleggia O anche Luoghi Che hanno Semplicemente Qualche elemento In più Come una nave Che è arenata E che tu puoi esplorare Sì È tipo il Titanic Un relitto Oppure La stazione Spaziale Da cui lanciano I razzi Ragazzi Sto gioco Era Poi Abbiamo Sinnoh Mostriamo La mappa Nuova Dai Che tanto Ne vale la pena Tanto è buona Che è Che è Ok Voi guardandola da qui Vedete solamente Le montagne Qui al centro Sì ok Va bene Ma Tu parti da qui E C'è già Una zonetta Di montagnole C'è proprio Un boschetto Carino Ma Ispirato Le montagne Tant'è vero Che nevica Soprattutto in platino E c'è un laghetto Un lago di montagna E qui c'è un altro 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 Lago di montagna Montagne Vabbè Abbiamo il monte Corona Sì Ma attraverso il monte Corona per passare Da Memoride A Evopoli Da una Qualsiasi città Per Nevepoli Passi dal monte Corona Tutte le volte Che devi passare Da Mineropoli A Curipoli E così via Monte Corona Ovunque Vabbè ci può anche stare Tu mi fai il monte Corona E non abbiamo problemi Sì Ci sono percorsi Che durano letteralmente Un'unità di spazio Letteralmente Cioè Che razza di percorsi È questo Questo percorso E questo percorso Sono minuscoli Perché devono essere Tutti occupati Dalla montagna Tu passi tutto il gioco Nelle montagne Perché non c'è solamente Questa montagna Ovviamente L'isola ferrosa È una montagna Va bene Per passare da Giubilopoli A Mineropoli Deve attraversare Una montagna Per passare Da Giubilopoli A Giardin Fiorito Deve attraversare Una montagna Guarda caso Vicino Flemminia Ci sono delle montagne Con le rovine Flemminia Che possono essere attraversate Ovviamente Certo Ma basta montagne Poi c'è il monte ostile Ovviamente al nord Montagne Montagne La neve di montagna Il lago di montagna E poi basta Giardini Ma allora Ma poi l'Ocaido Ce le ha tutte queste montagne Sì sì È effettivamente Una regione molto montagnosa Come se avessero fatto Il Trentino L'Ocaido Le ha le montagne Però che cazzo Se c'è una cosa Che l'Ocaido Non ha Però è un vulcano E Un deserto Ma perché mi hanno messo Un vulcano Un deserto Perché giustamente Avendo reso Tutta la mappa Uguale Non c'era più spazio Per un vulcano Un deserto Non mettetemeli a caso Vulcani e deserti Mettetemeli Se hanno senso Con la mappa Mi puoi fare anche una mappa Interamente desertica Ma l'hanno fatto in XD E Colosseum Ed era bellissima Era quasi tutta desertica Ma funzionava Perché era uno stile E invece no Mi ritrovo in una regione Che tutta quanta Tema montagna Improvvisamente C'è il deserto Ma vaffanculo Terribile Terribile Niente da dire Che poi Mare Ci può stare Che tu mi metta poco mare Perché la scorsa ragione Era tutta mare Ma c'è un Percorso acquatico Uno Uno solo Poi puoi avvicinarti al mare Una volta qui In un angolino Una volta qui In un angolino Una volta qui In un angolino E una volta qui In un angolino Il resto del gioco Tu puoi essere Arriva al mare Quanto vuoi Il mare non è esplorabile Nevepoli è Arriva al mare Addirittura un porto Non è esplorabile il mare Qui sembra di stare Sempre sulla costa Ma il mare Non lo vedete mai Tutta quest'area di mappa Non ha il mare Non ce l'ha E la regione L'ho trovata Noiosissima Ridondante Con percorsi Claustrofobici E la regione È quello che tutti vivi In un gioco del genere Ma non finisce lì Non mi sono piaciute Nemmeno che Papalaestra Sono tutti i miei gusti Personali ovviamente Però è per questo Che ve lo metto qui Perché vi dico Sembra che volessero fare La stessa cosa Di Rubino e Zaffiro Ma con più lore E meno varietà Platino Si è salvato tantissimo Riuscendo a migliorare Altre cose E quindi per me È un gioco Che Sta tra il bello bello E l'ok Forse gli concedo Il bello bello Ok Ma in tutta questa mappa Sono tutte caverne Si 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 Capisci Ora Giochi successivi Hanno fatto I remake Di oro e argento Ragazzi Ragazzi Sti giochi Erano perfetti Erano perfetti Perché quando Il massimo difetto Del tuo gioco È il C'è un po' Poca trama E il Non è ben equilibrato Il sistema Dei livelli E nient'altro Non troverai Un terzo difetto Mamma mia Cioè Ragazzi Non penso che ci sia qualcuno A cui davvero Non piacciono Sti giochi È pazzesco Ma son perfetti Son perfetti Hanno inserito Un sacco di meccaniche Che poi abbiamo Ridesiderato per anni Hanno inserito Un sacco di Seconde cose Potevi fare il Pokétron Che erano tipo Delle olimpiadi Di Pokémon Hanno ingigantito La regione Hanno aggiunto Addirittura Un percorso in più Ma era successa Una cosa del genere Mi hanno aggiunto Un percorso in più Per metterci La zona Safari Ma di che cosa Stiamo parlando Pazzesco Grafica Iper migliorata La grafica Di Ergold Sul Silver Cioè Allora Allora Facciamo il sentiero Campana Quando mai In un gioco Pokémon Vi è capitato Di rivedere Una cosa Di questo tipo Questo percorso Con la sua Perfezione La quinta generazione Ha cercato di inserire L'autunno La sesta generazione Ha creato un'area A tema autunno Ma entrambe Non sono autunnali Quanto questa Rendiamoci conto Di che cazzo Di gioco è questo Questa è la grafica Del gioco Ma capite Poi Ti avvicinavi All'acqua E c'era Il rumore Dell'acqua Ti avvicinavi All'a fontanella E c'era il rumore Della fontanella Ti avvicinavi All'a ventola E c'era il rumore Della ventola Non l'hanno più Fatta Colonne Sonore Pazzeschi Tu puoi anche Svucciare Con la colonna Sonora Del gioco Originale Se vuoi Mamma mia E puoi anche mettere Colonne sonore Di altri giochi Perché all'interno Del gioco Ci sono tutti I meccanismi Per poter cambiare La colonna sonora Come vuoi Mamma mia E ci hanno messo Due regioni E hanno corretto Tutti i difetti Delle regioni Di Di oro e argento Ogni difetto Che oro e argento Eppure cristallo Potevano avere Hanno cercato di risolverlo E mi ha messo Pokéwalker Insieme al gioco Tu avevi In regalo In più Una medaglietta Che era il Pokéwalker Che è stato Ai tempi Il contapassi Più preciso Mai realizzato Nella storia Dell'uomo Che ti permetteva Di contare i passi Di allenare i tuoi Pokémon Come se fosse Una pensione extra Mamma mia Cioè vi giuro Vi giuro Ho provato a rigiocarli Restano perfetti Non ho ricevuto Nessuno shock Nessuna delusione Perfetti Mamma mia Wow Ora Ci tocca affrontare I giochi successivi Io so che quello Che sto per fare Sconvolgerà la maggior parte Di voi Lo so So che molti di voi Saranno arrabbiati Dopo i miei vari video La quinta generazione Fa schifo Ma porca di quella puttana Porca di quella puttana A me bianco e nero Sono piaciuti tantissimo Come giochi Davvero Mi sono piaciuti tantissimo E spesso Ho difficoltà A far capire questa cosa Perché la mia delusione Verso la quinta generazione Non è legata Alla nostalgia C'è stato un video Che Sul canale di Bugozzi Dove un sacco di commenti Se ne sono usciti Dicendo Chiaramente i soliti Due nostalgici Che non capiscono un cazzo Che eravamo io e Adriano Ora Adriano come primo gioco Ha avuto Ultrasole Voi spiegatemi Uno che ha iniziato La sua carriera Con Ultrasole Come fa ad essere Nostalgico Di nero e bianco Non Li ha giocati Cinque minuti prima Che li commentassimo C'è La sua Opinione Chiamiamola Per quanto io pensi Che sia più che obiettiva Ma La sua opinione Non può essere Dettata Dalla nostalgia Può avere gusti di merda Può avere torto Ma non può essere Dettata dalla nostalgia Ma lo senti anche Dal discorso di una persona Se la cosa è nostalgica E i nostri commenti Non mi pare fossero Nostalgici E lo stesso vale per me E quindi Ci tengo a farvi sapere Che Io Quando li critico Li critico solo I pokemon di merda Che hanno disegnato Per questa merda Di generazione E come hanno gestito La generazione Il fatto che abbiano fatto Un anime di merda Il peggiore mai fatto Abbiano fatto Gli spin off Di merda Peggiori mai fatti Abbiano cancellato Tutti gli spin off Che c'erano già Cioè Qui mi dicono Perdona Mi dico Ma bianco e nero Hanno Pokemon orrendi Fotocopiati Dalla prima generazione D'accordissimo Sono una merda Quei pokemon E sono insalvabili Indifendibili E non capisco Perché la gente Continua a dire No ma erano bellissimi No 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 Sono disegnati male Tranquil L'han disegnato male Ha il piede storto Garbodor Gli hanno fatto Più gobbe Di quelle che erano necessarie Persino Pidava troppe piume Ma dio mio Le regole fondamentali Di semplificazione Dai cazzo In che senso Non cancellato spin off Oh con l'uscita di Nero e bianco Hanno deciso di cancellare Tutta quanta La saga di Ranger Hanno deciso di cancellare La saga dei battle game Come appunto Stadium Revolution Colosseum XD Hanno deciso di cancellare Poké Park Hanno deciso di cancellare Anche Mystery Dungeon Ma poi su Mystery Dungeon Si sono ricreduti Ma dopo Dopo E così via Sì sì lo so che Moon arriva dalla prima generazione Non vi preoccupate Dio mio Poi Mi dice Ok regione piatta e sciatta Ma secondo me La regione non è piatta Hanno sbagliato Secondo me a non puntare di più Sul fatto di fare Manhattan Nessun riferimento al passato Questa è una cosa che ha fatto Tanto male anche a me Anche a me E mi dice Si salva solo la trama Sì ma la trama è perfetta Cioè ha una storia perfetta Nero e bianco Hanno le storie più belle Coinvolgenti Che Pokémon abbiano mai avuto Trattano anche Dei temi particolari Cioè Se la cava davvero da Dio Se la cava davvero da Dio N appunto Per dirne una Quindi Sono tra i miei favoriti Anche per Tutto l'inserimento Di alcuni personaggi Come Aloé Ragazzi Aloé È un personaggio perfetto Perché io continuo A dimenticarmi Di scriverci Pokémon Lei Aloé Aloé è un personaggio Pazzesco Un'ottima capopalestra Cioè Io ricordo Quando la annunciarono Eravamo tutti sconvolti Perché è stato il primo personaggio Nero ma è annunciato In Pokémon Poi certo L'hanno cambiata Perché effettivamente Somigliava un po' troppo Alla Blackface Ma non così tanto Onestamente Questo è il gioco Che ha cercato Di inserire Più elementi Differenti Più Personaggi Caratteristici Ha cercato Di rendere il gioco Più immersivo Facendoti Esplorare Alcune aree particolari Come cantieri Le fogne Sì ok Le fogne Però non c'erano In Nero Bianco Sono in Nero Bianco 2 Scusatemi Insomma Un'altra delle cose più belle Hanno rivoluzionato Il concetto di palestra Questa generazione L'ha rivoluzionato Del tutto Andiamo a prendere Le prime palestre Ok Prendiamo Andiamo su Tra l'altro Oggi Su Central Wiki Sono andato a scorrere E sull'articolo Di Pokémon Smeraldo E di Pokémon Rubino E Zafiro Ci sono ancora cose Che avevo scritto io Ah non mi dai immagini Di capi palestra? Dai Dammi un'immagine Che almeno Le uso meglio Ecco Molto meglio Perfetto Un attimo E ci arrivo Perdonatemi Ma essendo che Stanno succedendo Cose strane Legate al Progetto segreto Vi abbandono un attimo E torno subito Che almeno scopro Se sta succedendo Qualcosa di importante Sì scrivo per Pokémon Central Raccontategli la storia Intanto E cercate di indovinare Cosa penso Di Nero e Bianco 2 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora Ho bruttissime notizie Per il progetto segreto Ma non così brutte Nel senso che Sì È successo qualcosa di Tra virgolette brutto Ma Niente che abbia conseguenze A lungo termine Se non rendere la storia Più interessante Quando ve la racconterò Non era un selfie Era un video Ricordati Comunque Come dicevo Prendiamo la prima generazione Brock È una palestra Nel senso proprio che Tu ci entri E ti dicono Sì sì questa è la palestra È una stanza vuota C'è Brock È tutto un po' fatto di roccia E basta Ok Misty È una piscina Il generale Serge Non ho capito perché Ma gli piacciono i cestini Erika È una serra Koga Non è chiaro che cosa Dovrebbe essere Ci sono un paio di elementi Che fanno intuire Che potrebbe essere Più o meno Nello stile Di un dojo E ci sono pareti invisibili Sabrina Non è niente È un Un labirinto Blaine Non è niente È un labirinto Giovanni Non è niente È un labirinto Ed è così per tutti Per tutti Per tutti E attenti Quando guardate questi Perché molti Li giudicano Per cose che in realtà Sono nella remake Nel gioco originale È una zona Di tipo roccia Esattamente come Brock Lui ha Un labirinto E basta Lui ha un labirinto Lei ha un labirinto A tema Sauna Roba del genere Abbiamo poi La quinta generazione I primi capi palestra Hanno un ristorante E sul palco Del ristorante Si fanno le lotte Aloe Lei Ha un museo E sul retro E sul retro del museo C'è l'archivio E nell'archivio C'è una biblioteca E nella biblioteca C'è un passaggio segreto Per poter accedere A Daloé Artemisio Lui ha il MoMA Il MoMA È una palestra All'interno del MoMA Del museo d'arte Di New York Ci sono le sue installazioni E una delle sue installazioni È una prova Da superare Camelia Sono montagne russe Sono montagne russe E alla fine Delle montagne russe Poi affrontare Camelia Rafan Mi pare che lui Avesse un cazzo Di labirinto E basta Anemone Ha un aeroporto Silvestro Il labirinto È un labirinto Molto tematico Molto bello Ma è un labirinto Comora Ha una scuola Veglia Ha un locale notturno Un locale In cui suonano musica E tu devi farti spazio Tra la folla Per raggiungere La capopalestra Sul palco Artemisio Ha un'altra installazione Che è cambiata Camelia Ti fa fare una sfilata Di moda Ciprian Che cosa aveva Ciprian? Non mi ricordo più Cosa aveva Ciprian Non mi ricordo Ha una miniera Rafan Cioè La possiede O la palestra Ha una miniera Perché altrimenti Pure Pedro Ha una miniera Piscina Ok Aveva la piscina Sì ok Che la palestra Valerio E violapoli Sospesa nell'area Quella di Raffaello È totalmente buia Eccetera Però sono Dettagli È proprio Faccio il labirinto Ma do un tema Al labirinto Mentre qui Non è un labirinto Il museo O la scuola O la La gara di bellezza O altro Non sono tutti Labirinti A volte Capita il labirinto Ma non sempre L'hanno rivoluzionato Facendo in modo Che le palestre Per esempio Da fuori Non fossero Tutte uguali Ma ognuna Diversa Pazzesco E hanno fatto 14 palestre In quel gioco 14 capopalestre In quel gioco 14 Wow La quinta generazione È stata divertentissima Entusiasmante Austropoli Ti fa proprio venire Ansia di andarci Ti fa venire Voglia di esplorarla È un bel gioco Come disse un mio amico Anche abbastanza recentemente Che ha recuperato Questi giochi Senza averli mai giocati Senza sapere Che come sarebbero stati Non è un bel gioco È proprio un bel gioco È un bel gioco E basta Ed è vero E nero e bianco 2 A me A me Sono piaciuti davvero tanto Davvero tantissimo Anche più di nero e bianco Anzi Molto più di nero e bianco Perché uno dei motivi Per cui non sopportavo Nero e bianco Era la presenza Di quei pokemon Di merda Ma 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 In realtà Hanno perso qualcosa I ritmi sono sballati Davvero I ritmi sono sballati Io mi sono reso conto Di giocandoli Che diventano noiosi Perché non hanno pensato bene All'equilibrio Tra le cose che succedono E mi dispiace Stavo pensando Di comprare Un pokemon nero e bianco 2 Ma costano 100 euro Ciascuno Infatti Non a caso Erano più lenti Ma neanche un lento Come la prima generazione Questo è chiaramente Un lento che non era previsto Mi dispiace Perché l'han gestita male In più hanno Sì Ha fatto un sequel Del gioco originale Ma senza il gioco originale Non è così godibile Senza aver giocato Nero e bianco Nero e bianco 2 Non sono niente di speciale Certo Bellissimo Tutto quanto La parte finale Con il ritorno Di tutti i capi palestra Oh Robbie Zoy Si è abbonato Grazie per l'abbonamento Davvero Grazie mille Se vuoi entrare nel gruppo abbonati Chiacchieriamo un sacco E Facciamo cose folli Lento come le barre di vita Di quarta gen Dio mio Dio mio No Quinta generazione Comunque ha fatto cagare Dal punto di vista dei pokemon Che è grave Ma se io devo valutare Semplicemente il gioco da solo Il gioco è ottimo Non c'è niente da fare Comunque sì Molto bene che abbiano fatto un sequel Ah ok ci sei già nel Pardon Scusami Allora Poi Poi XY A me sono piaciuti Lo so che la maggior parte di voi Li metterebbe qui Onestamente Penso che siano in realtà Dei giochi standard Davvero E la delusione Arriva dal fatto Che siano un po' incompleti Però Ecco Forse direi Appena sotto A livello più oggettivo Perché Allora Era un passo indietro Rispetto alla quinta È un passo indietro Rispetto alla quinta La trama è più banalotta I tuoi amici sono irritantissimi Alcune idee sono bellissime Io adoro il professor Platan È uno dei migliori professori Che abbiano mai fatto Adoro Tantissimi elementi Soprattutto della regione Questa è la regione Ambientata in Francia Calos Ok Ora C'è la reggia aurea Guardate che meraviglia Che è sto posto Cioè Ma che bello Che bello Però al tempo stesso Sono giochi mutilati Si vede che volevano fare La cosa degli alieni È evidentissima È invisibilissimo Che non pensavano subito Di fare la trama di Azzetta E che non l'hanno pensata Fino in fondo E che Zyger Ce l'hanno infilato Perché ci voleva un terzo Ma non sapevano che cosa fare Non hanno sfruttato il fatto Di parlare della divinità Della vita e della morte Perché vorrei ricordarvi Che loro sarebbero La vita e la morte In teoria Le mega evoluzioni Sono fantastiche Sono Sono fantastiche Le mega evoluzioni Io le adoro Però Però Capisco perché siano così odiati Sono giochi mutilati Manca davvero molto La trama di Matier Bellissima Però Se dobbiamo parlare Di giochi con le mega evoluzioni Nettamente meglio Rubino Mega Zaffero Alpha Cioè Rubino Mega Zaffero Alpha Sono nettamente meglio Un fatto di mega evoluzioni Te le fanno godere di più Ce ne sono di più C'è anche l'archeo risveglio Tutto il resto Sono stati dei giochi Molto belli Che hanno trovato Il modo di svecchiare Per bene Rubino e Zaffero Senza snaturarli L'unico grosso difetto Di Romino Mega Zaffero Alpha È che con tutta la perfezione Che è Smeraldo Sti deficienti Non hanno messo Nessuna delle alterazioni Di Smeraldo Nessun Neanche uno Degli ambienti nuovi Di Smeraldo È presente nel gioco Neanche una Delle migliorie tecniche Di Smeraldo È presente nel gioco Neanche una Delle scelte di stile O dei personaggi Di Smeraldo Come Scott o Rodolfo È presente nel gioco Nì Parcolotta Non è presente nel gioco Basta Voi non potete farmi Un gioco di merda Dal genere C'era un motivo Se Smeraldo Era così amato Non dico che Dobbiate per forza Farmi Smeraldo Da capo Ma almeno Andate in quella direzione Che poi Un'altra cosa Che non sopporto È il cambiarmi La lore Di Chiogre Groudon Che prima erano I creatori Della terra E del mare E poi diventano Il creatore Di quest'isola Nello specifico E questo mare Nello specifico Ma vaffanculo Prima hanno creato la terra Adesso mi dice invece Che no Hanno fatto Questo perimetro Ma che cazzo vuol dire C'è Mega Vince È tuo primo giorno di lavoro Che lavoro inizi a fare Che bello In bocca al lupo Secondo me È un ottimo remake Di Rubino e Zaffiro Ci sono delle scelte Di merda Cioè Allora Scommetto che Non me le daranno mai Però Vediamo Forse Dovrei cercare Vediamo 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 Io ho cercato Di essere Il più preciso Possibile Vediamo Se me lo fa vedere Sì Me lo fa vedere Mamma mia Il fastidio Ho la pelle Doca Solo a guardarlo È il fastidio Che mi sale Che hanno fatto? Praticamente In questo gioco Non volevano riempire Le aree non esplorabili Quindi quando tu arrivavi A questo punto C'era l'erba Che cambiava colore Oltre non potevi andare Che è un po' una cagata A livello grafico Però L'ho sopportata La posso sopportare Ma se c'è una cosa Che non posso sopportare È il mondo Disegnato piatto A questo punto C'era semplicemente Un cazzo di muro Verticale Era letteralmente Un muro verticale Su cui era dipinto Il fondale Dicendoti Eh Stai Stiamo guardando In lontananza Le montagne Ma manco Per il cazzo Ma manco Per il cazzo È È chiaramente Un cartonato Tu non puoi Farmelo così Tra l'altro Sta roba Non c'era neanche Nel gioco originale Potevano non farla Invece Sti deficienti L'hanno fatta Però 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 Mi hanno anche Inserito La meccanica di pokemon Più divertente Di tutte Lì per volo Io ci passavo le ore A volare sulla regione Lì per volo Praticamente Da questa Praticamente Da questo gioco in poi Volevano In questo gioco e basta E poi L'hanno rifatto per caso In un altro gioco Avevano inserito il fatto Che tu potessi volare Sulla regione Letteralmente Muovendo Il cursore Tu muovai Volavi in giro Per la regione E potevi scegliere Dove atterrare Wow Wow Paro paro La terrazza Delle esopole Nero e bianco 2 Sì infatti Tenendo conto Che sono un po' Intredd questi i giochi Quindi qui Ho un problema Ma in realtà Gli ho voluto bene Io gli ho voluto Un sacco bene Il cambio di design Di tutti i personaggi È fantastico per me Rubino Mega Zaffiro Alpha ha avuto Un cambio di design Che Come cazzo Faccio io A fare queste cose Ma mi tocca Mi tocca Riconsiderare la cosa Ma Rubino Mega Zaffiro Alpha sono Effettivamente Migliori Di X e Y Sono migliori Dai Non posso Fingere di no No Mi tocca Mi tocca Però c'è lì per volo Il design Di personaggi È stato davvero Tanto migliorato C'è Rubino Mega Zaffiro Rubino Mega Zaffiro Alpha Ci ha regalato Questo Io vorrei ricordarvi Che ci ha regalato Questo Io non ho mai visto Tanti porno Come su questo personaggio Attenzione Questo è il personaggio Come appare All'interno Di Ultra Sole Ultra Luna Questo è come appare All'interno Di Rubino Mega Zaffiro Alpha Hanno preso Questo suo design Che ormai era obsoleto Vecchio Non andava più bene E me l'hanno rifatto Così Dio mio Che bello Che era Quindi Sì Ecco Sì Icaro Crome Dice Rico 13 Dandel No Dandel Sarà sempre La cosa più sexy Che abbia mai toccato Questa terra Cioè per chi non l'ha visto Dandel È lui Questa creatura È Dandel Guardate quanto è figo Guardate quanto è figo È una cosa perfetta Cioè Non dico che sia imparagonabile Alla meraviglia Che è Ivan Assolutamente Assolutamente Però 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 Da quale dei due mi voglio far mettere i piedi in faccia Dandel Poi Procediamo Il gioco successivo Che è uscito Sì Siamo già alla settima generazione Mamma mia Mamma mia Io sceglierei Max Guardo Basci Come sceglierei Max Allora Non che io voglia fare King Shaming Non che io voglia fare King Shaming Ma lasciami essere Assolutamente Dalla parte del team Hydro Se c'è una cosa Che io non ho mai capito Di Robino Omega È questa scelta Di merda Del team Magma Allora Andiamo a prendere Il team Hydro Il team Hydro Dov'è il vecchio design? Datemi il vecchio design Sto cercando il vecchio design Ma ho paura che mi escano di porno A un certo punto Ok Va bene Va bene Va bene Ci siamo Questi erano vecchi Team Hydro o Team Magma Ok Abbiamo il team Hydro e il team Magma Il team Hydro erano questi due Come vedete Come design Sono ispirati i marinai Hanno questa bandana in testa Che dovrebbe sapere un po' di pirata Perché c'è anche il logo del team Hydro Che in inglese è acqua Per quello il simbolo è una A Che Si ok Sa un po' di pirata Ma per lo più sono vestiti da marinai Quindi Maglietta a strisce Orizzontali Hanno Questi pantaloni Molto lunghi Molto larghi Proprio a zampa Neanche a zampa delle fane Ma a sigaretta proprio E ok Va bene E poi c'era il team Magma Il team Magma Mi spiace ammettere Ma pure se io avevo giocato A A Zafiro Il team Magma Mi ispirava di più Perché guardate il team Magma Quanto era bello Cioè Loro Venerano il Dio della Terra Ma il Dio della Terra Effettivamente potrebbe essere interpretato come Satana Quindi hanno Sono vestiti da satanisti Hanno quindi Sono quindi incappucciati Hanno delle corna sul cappuccio Perfetti Perfetti Sono letteralmente dei satanisti Incredibile 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 Poi che hanno fatto? Che è? Che è? Cioè il team Hydro Quando l'ha modificato Hanno detto Va bene Allora andiamo tutto su pirati Sono pirati D'ora in po' sono abbronzati D'ora in po' la bandana è nera Così richiamiamo ancora di più La bandiera dei pirati Hanno vestiti stracciati In modo che sembrino Ancora più dei pirati E il loro capo D'ora in po' Indossa un'ancora In modo che sia vestito Come un fottutissimo pirata E il suo secondino È vestito come un fottutissimo pirata E poi ce n'è ancora una Ce n'è ancora una Aspetta Anche lei Vestita come una fottutissima pirata Team Magma Sono vestiti da cannuccia Da cannuccia di plastica Non riciclabile Indossano i vestiti Degli Non sembrano Non sembrano più dei satanisti Perché il cappuccio Non è più un cappuccio D'incappucciato Non copre più la loro fronte Che cosa sono? Hanno perso Il loro unico riferimento Gli hanno tolto pure Il colore nero Che è uno dei colori principali Del Team Magma E gliel'hanno tolto Non sono più neri Il loro capo è un geologo E i suoi secondini Sono due scienziati Cosa mi avete fatto? Mi avete trasformato Gli satanisti in scienziati? Cioè Ma dai Ma dai Quindi Sì ecco Hanno fatto un paio di scelte Anche stupide Comunque Solo e luna Ragazzi So che a molti di voi Farà male Quello che sto per fare Ma porca puttana Quanto sono stati belli Sole e luna Mamma mia Mamma mia Io quando ho visto il trailer Ero emozionatissimo Voi non potete capire Emozionatissimo Perché Primo Mi propongono Un'ambientazione Del tutto nuova Del tutto tropicale Siamo alle Hawaii Mi mostrano subito I leggendari Mi dicono subito Guarda saranno tutti Basate sulle maschere Tiki Ci saranno i totem Andrei nei villaggi E dovrei fare un giro Delle isorete Abbiamo tolto i capi palestra Potrei esplorare Una città abbandonata Riempita di graffiti Potrei esplorare Un supermercato Abbandonato Potrei esplorare Un'area Che è stata completamente Coperta dalla lava Durante un'eruzione Ma stiamo scherzando Mi dite Le palestre peggiori Sì Effettivamente Non sono stimolanti Quanto quelle Di quinta generazione Ma secondo me Sono più stimolanti Della maggior parte Delle altre palestre Quelle di quarto Non valgono un cazzo Davanti a queste Davvero Sole e luna Però Però Riconosco che Sbologna il finale In cinque secondi Cioè Davvero Sole e luna Ha fretta col finale Mi crea Un problema Gigantesco Con una famiglia Tossica E una delle più grandi Antagoniste Che pokemon Abbiamo avuto Perché i due più grandi Antagoniste Della storia di pokemon Sono e rimarranno Sempre quelli Gachis Di quinta generazione E come diamine Si chiama Quella di Di settima Non mi viene il nome Come si chiamava Come si chiamava Come si chiamava Ti prego Samina Samina Mamma mia O Samina Non ho mai capito Come pronunciarlo Ma è vero che Ultrasole e Ultraluna Sarebbero i veri Giochi completi E Sole e luna Una specie di versione light Assolutamente Si Assolutamente Si 100% Infatti Ultrasole E Ultraluna Secondo me Sono oggettivamente Tra i giochi migliori E io sono d'accordo Nel dire Porca puttana Gli ho amati A parte che c'è Solgaleo Solgaleo è Il dio del sole Guardate quanto cazzo è bello Quanto cazzo è bello Solgaleo Ragazzi Solgaleo è il mio leggendario preferito Non sto scherzando Io amo Solgaleo Guardatelo Ma che meraviglia Meraviglia del design è Dighilo anche tu Vieni qua Dighilo anche tu Dighilo anche tu Che è una meraviglia del design Dighilo Dai Hai qui il microfono Dighilo Dighilo quanto è Una meraviglia del design E o non è una meraviglia del design Micio Si lo so Micio Una fottutissima Meraviglia del design E' un leone Con la tuta D'astronauta No Allora 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 Primo Ha i moonboot I moonboot Ok Già questo E' un 10 su 10 Ma per il resto Non ce l'ha la tuta D'astronauta Leggerissimi richiami I suoi occhi Non sono occhi Lui ha una sfera in testa E una proiezione Che appare sulla sfera Insieme ad altre stelle Sono i suoi occhi La sua bocca Guardate come si apre Intorno al suo muso C'è una corona Perché sono i raggi solari Ma è anche un leone Perché? Perché nei simboli alchemici Il sole era rappresentato Con un cazzo di leone Ma lui E' fatto d'acciaio Acciaio fuso Perché in realtà Ai tempi degli alchemici Si pensava Che il sole fosse fatto Di acciaio Che bello Che bello Allora I leone effettivamente Mi piacciono come animale Anche con leone di Steven Universe Però secondo me Il mio amore per Solgaleo È legato anche A leone di Steven Universe È pazzesco Ragazzi Io ogni tanto Vi posso dire Che ci sono dei pokemon Che la gente li odia Perché non li ha capiti Solo perché non li ha capiti Come cazzo si chiama Il delfino di merda Di nona generazione Finizen Finizen Ok Finizen Lo vedete Finizen? Voi non lo avete capito Io non sopporto la gente Che dice No ma Palafin Non ha nessun senso È bruttissimo Ma non avete proprio capito Un cazzo Ma voi non avete capito Un cazzo No Garbodor Non è una storia del genere A me Trabish piace un sacco Trabish è proprio bello Garbodor è disegnato male Ma Trabish è proprio bello È un delfino È bellissimo a prescindere Avete ragione Ma Ok Delfini Del palazzo di Minosse Ok Andiamo in Grecia I delfini del palazzo di Minosse Sono alcune delle opere d'arte Più antiche della storia Ovvio Non 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 sono le grotte di Lascaux Va bene Ma Non capita facilmente Di trovare Per la civiltà minoica Un'opera d'arte Ed è ancora più difficile Beccare Guarda caso Dei cazzo di delfini Ora Come li ha rappresentati Primo Col becco Perché non Non li avevano mai compresi per bene Questi sono delfini collo di bottiglia Non sono delfini strani Ma becco Poi La coda Verticale Ma Pokémon l'ha raddrizzata Perché giustamente Non sembra un delfino Se gli fa la coda verticale Sono stati stupidi loro E poi Il richiamo delle onde Disegnato Sui due fianchi E' lui E' lui E' Finizen E' Finizen La citazione è chiarissima E' lui E' lui Ha il becco Non ha il collo di bottiglia Ha il becco Lo vedete proprio Che è un Fottutissimo becco Gli hanno disegnato Le onde a lato Esattamente come era successo E tutto il resto Citazione bellissima Potrebbe finire lì Ma Questo è il palazzo di Minosse Siamo in Grecia Quindi Che succede Che Questa E' la forma Cioè in questo in realtà E' un palafin E' un Finizen Ho bisogno di un palafin Mi date un palafin? No Io ho cercato Finizen Perché dovrebbe darmi un palafin Ce l'abbiamo Questo è un palafin Lo so che chi non segue Pokémon A questo punto Sarà a dire No scusa Tranquilli Questo è un palafin E' un altro Pokémon Quando palafin E' A questo aspetto Viene chiamato palafin Forma zero Ok Zero Forma zero In inglese Zero Hanno pensato alla Grecia E questi han detto Chi è il più intrigante Tra i guerrieri? Allora 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 Ragazzi L'hanno fatto davvero L'hanno fatto davvero Aspetta 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 L'hanno fatto davvero E quindi E quindi Allora Ho corretto il lag L'hanno fatto davvero L'hanno fatto davvero L'hanno fatto davvero E quindi palafin qui Nella forma zero E diventa la versione Hero Quando viene sconfitto E tu lo rimandi in campo Ragazzi Voi lo odiate Perché non l'avete capito E quindi È una trisciata Di proposito È una trisciata Di proposito Ma è bellissimo E non è pigra La forma zero È per dirti Che questo è un nuovo Modo di intendere L'evoluzione La sua evoluzione Non consiste nel fatto Che lui sia cresciuto Altrimenti Avrebbero fatto solamente Un pokemon La sua evoluzione Consiste nel fatto Che solo a partire Da questo livello Lui può cambiare forma E come crei questa dinamica Senza creare un problema Al gioco Nella programmazione Dovendo riprogrammare Tutti i giochi successivi Trasformandoli In un'evoluzione Non in una forma E quindi Quando una volta Che ha raggiunto Il livello giusto Finalmente Il suo cuore Abbare sul petto Perché lui ora è forte Perché lui ora La forza dell'amore E diventa Un eroe Cioè E che lo cron mi dice Ma il trash può anche Non piacere Ma questo non è Solo trash Questa è cultura E la cultura piace La cultura piace E questa è È roba Gigantesca Questa è roba Gigantesca Cioè Che bello Dio mio Cioè Per quando Avevo in squadra Un finizzen Perché appena L'ho visto Ho detto Minchia è troppo Bello Avevo tantissima Paura dell'evoluzione Perché mi avevano detto No guarda L'evoluzione Fa cagare E non gli dire Ti prego Ti prego Fa che non faccia cagare Fa che non faccia cagare Che poi mi dite Il design fa cagare Ma non è detto Nel discorso Non è per forza questo Prendiamo Necrosma Il design di Necrosma Fa cagare Ma è voluto Perché? Perché Necrosma È il pokemon del male Quindi l'hanno fatto così In modo che ti caghi sotto Quando lo vedi E tra l'altro Voi non lo vedete Da questa immagine Ma È trasparente Queste parti Non sono bianche Sono trasparenti Lui è come se fosse fatto Di cristalli di quarzo E riflette la luce Lui assorbe la luce Lui è il dio Dell'oscurità È il dio Dell'oscurità Ok? Ma andiamo oltre Perché non basta Lui non è semplicemente Il dio dell'oscurità Lui è anche il dio della luce Deve solo entrare Nella sua altra forma E cambia completamente aspetto E diventa fighissimo Con le stesse forme Ma fighissimo Luminosissimo Questo è Necrosma È ultra Necrosma Ma non finisce qua Lui può contaminare Solgaleo Rendendo Solgaleo Ancora più bello Solgaleo era già bellissimo Così diventa ancora più bello Lunala fa cagare Non ignoriamo Lunala Facciamo finta Che non abbiano mai inventato Quel Pokémon Ma Mamma mia Quanto è bello Quando si fonde Con Solgaleo Guarda Mi migliora Solgaleo Solgaleo era già perfetto Così diventa ancora più bello Perché lui adesso è contraffatto Lui sta vivendo un'eclissi L'oscurità lo ha catturato Non ha più il controllo Procediamo Procediamo Allora Allora Bisogna procedere Bisogna procedere Ma Sono in difficoltà Perché ora tocca Va bene Va bene Io mi faccio forza Un gioco di merda Come Let's Go Io non avrei Mai Pensato Grazie Jange che mi capisce Cioè Sono così tante merde In sta cosa Ci sono così tante merde Dobbiamo fare una collezione Di tutte le cose Che non vanno in Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Perché non finiamo più Questi sono giochi di merda Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Hanno tutto che non va Allora Partiamo dall'inizio Ok Pokémon Go Non è un gioco Della serie principale Perché l'ha sviluppato Niantic Quindi è uno spin-off Allora Abbiamo la regione di Kanto È la regione Del primissimo gioco Pokémon Dovremmo volerle bene No? È bellissima La regione di Kanto Sì Che belli quei video Dove non era ancora uscito il gioco E dicevano Oh no C'è una nuova area Non c'è nessuna Fottutissima nuova area Chiunque di voi A mai giocato a un gioco Pokémon Delle prime generazioni Qui già inizierà a notare Che c'è qualcosa che non va Questa è la mappa di Kanto Ma qui non c'è niente Ma come? L'area più grande Di tutto il gioco Era qua È stata rimossa ragazzi È stata rimossa Lo hanno fatto Hanno rimosso Parte della mappa Hanno preso la mappa più piccola Che abbiano mai creato Ovvero la mappa di Kanto Che è davvero piccola Ma per i primi giochi Ci potevamo anche stare Però Hanno preso la mappa più piccola L'hanno sviluppata Su un gioco che gestisce Skyrim E hanno detto Facciamola più piccola ancora Quindi Vi ricordate la zona Safari? Questa è quella di Smeraldo Tra l'altro Bellissima quella di Smeraldo L'avevano ancora in più In grandita Vi ricordo che finiva qui Quella di Rubino e Zaffiro In Smeraldo Hanno aggiunto tutta quanta Quest'area Allora Dov'è la zona Safari Di Ecco Questa zona Questa era la zona Safari All'interno di Di Verdefoglio Rossofuoco Sono delle aree Molto grandi Molto spaziosi In cui si trovavano Un sacco di Rimossa L'hanno completamente Rimossa Sì Ginghi Hanno tolto la zona Safari Già Già questo fa male Hanno preso La mappa piccola Che aveva il problema Di essere piccola Sai che hanno detto Facciamola più piccola ancora Secondo I Pokémon leggendari E anche gli starter Possono essere eventualmente Trovati selvatici In questo momento State vedendo Un ragazzo Che sta volando Sulla Via Vittoria Con il suo Charizard nero E sta incontrando Un Charizard Selvatico E un Articuno Selvatico Qui avete Un Moltres Shiny Selvatico Qui avete Un Articuno E un Dragonite Selvatico Non solo I Pokémon leggendari In questo gioco Non sono unici Ma li trovi Selvatici Che volano Tranquilli Per i fatti loro E si possono Scambiare Ma certo Allora I Pokémon leggendari Sono Pokémon Così rari Che di solito Nel gioco Te ne concedono Uno E a volte Ha addirittura Una sola possibilità Per catturarlo E se fallisci Non puoi più Riottenerlo O ti danno Una sola Seconda opportunità Per alcuni Leggendari Molto speciali Questi ci sono Esemplari Potenzialmente Infiniti Tu puoi trovare Infiniti Zapdos Se vuoi Ma questo Non vale Solo per loro Non vale Solo per loro Allora La zona Safari È una zona Molto grande E molto ampia Che conteneva Diversi Pokémon Esclusivi Voi potreste chiedermi Ma che vino Hanno fatto Quei Pokémon Tutti i Pokémon Che si trovavano Nelle zone Safari Sono stati resi Disponibili In tutta la regione Casualmente Tu puoi Incontrare I Pokémon Della zona Safari In qualsiasi Area del gioco Vediamo Per esempio Qui siamo Nel tunnel Roccioso Come vedete C'è un Kangashkan C'è un Kangashkan Nel tunnel Roccioso Kangashkan Era un Pokémon Rarissimo In questo gioco Lo si trova Tranquillamente Anzi Anzi Sapete che è diventato Molto comune Shancy In questo gioco Gli Shiny Sono facilissimi Da trovare Le probabilità Di trovare uno Shiny Sono altissime E si alzano Molto velocemente Infatti tutti Tutti mostrano Immagini In cui stanno Trovando qualcuno Di Shiny Ma tranquilli 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 Non tutti i Pokémon Sono infiniti Per esempio Mew Tutti conoscono Mew Mew è il Pokémon Più raro Di tutti i tempi È un Pokémon Che io adoro Tant'è vero Che l'ho messo Come nome Del mio canale 151 È partito Proprio da Mew Io amo Mew Ora Mew Nel gioco È stato inserito È stato inserito Come lo si ottiene Allora Mew Fino ad ora Era il gioco Era il Pokémon Più difficile Da ottenere In assoluto C'erano solo Due modi Per ottenerlo Tre modi In realtà C'erano per ottenerlo Opzione A Aver partecipato A un evento Che ha durato Solo sette giorni Nel 2006 E che non si è mai Più ripetuto In tutto il mondo Se tu durante Quell'evento Ti trovavi In quel luogo Nello specifico In Giappone Per ritirare Quell'oggetto Nello specifico Esattamente in quei giorni Esattamente in quelle coordinate Potevi ricevere Mew Fine Opzione B Potevi catturare Mew Perché per fortuna C'era un errore di gioco Nei primissimi giochi E c'era modo Di ottenere Mew In quei giochi Però poi non potevi scambiarlo Terza opzione Potevi Completare il Pokédex Al 100% Nel vecchio gioco Di Pokémon Ranger Ok Sì l'hanno dato anche Mirabilandia Se non sbaglio Sempre per quei sei giorni Fine E tu mi dici Quella sfera 30 euro No era 50 euro In questo gioco Mew Lo può avere Con la Pokéball Plus Tu spendi 50 euro E ottieni nel gioco Mew Ma il gioco ne costa 60 di euro Il gioco Costa 60 euro Il gioco Costa 60 euro Ma se tu compri anche quest'altra Pallina Da 50 euro Che non può utilizzare Nessun gioco A parte questo Nello specifico Puoi avere Mew Ma non finisce qui Ma questa è solo La ciliegina sulla torta Di questa pila di merda Hanno censurato il gioco Hanno censurato Il fottutissimo gioco Dove cazzo Allora dov'è 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 Ah già Non c'è più Stavo cercando la censura Io sono stupido Ho appena fatto L'effetto sonoro Dei video Di Non ce la faccio Non mi viene Non può non venirmi Il nome di Di Dave 504 Allora In questo punto del gioco Fino ad ora C'era sempre stato Un anziano signore Che era svenuto a terra Nei primi giochi Veniva detto Che era ubriaco E c'era la figlia In imbarazzo Diceva No torniamo a casa Mi stai mettendo in imbarazzo Scusami Non puoi passare Era una scusa Per non farti passare Da quel punto Prima che tu Avessi completato Un pezzettino di drama E quindi c'era un tizio Ubriaco Lanciato a terra Ora Poi lo censurarono Com'è che lo censurarono Dissero Vabbè Facciamo allora Che lui In realtà Non è ubriaco Semplicemente Ha un'indigestione Di caffè O non mi ricordo Ok sì Non ha ancora Preso il caffè L'esatto opposto Scusatemi Non ha ancora Preso il suo caffè Quindi tu Arrivavi lì E c'era lui Che era scorbutico Antipatico No tu non puoi passare Questa è proprietà privata E ti urlava contro Sdraiato a terra Dicendo No è mio Il terreno E la figlia D'imbarazzo Dire Ma che cosa stai facendo Scusa Lo hai troppo incazzato Perché non ha ancora avuto Il suo caffè mattutino Ok L'avevano fatto Anche in tutte le remake Questa cosa È stata reiterata Fino all'ultima uscita Di quei giochi Che è stata nel 2016 Nel 2017 Hanno tolto il vecchio Hanno tolto il vecchio E hanno messo chi? Il Team Rocket Ma ci può anche stare Ci può anche stare Perché questo è un remake Di Pokémon giallo È un remake di Pokémon giallo Quindi è ispirato di nuovo Al cartone animato Ci sta Quindi mi hanno messo Jesse e James Ma Non hanno il carattere Di Jesse e James Non litigano tra di loro Non fanno il motto Meo Non parla Potevano farlo parlare Potevano correggere L'errore del vecchio gioco Il vecchio gioco Aveva la scusa di essere vecchio Questo gioco non ce l'ha una scusa Meo non parla Dio mio Quindi loro non hanno Il carattere che avevano nel gioco Né altro Non partono neanche La velocità della luce Cosa che invece facevano In Pokémon giallo Quanto meno Ma niente Non hanno niente Del Team Rocket Non sono neanche interessati A Pikachu Ma non abbiamo ancora finito Allora Il gioco è stato pensato Per i giocatori di Pokémon Go Quindi quando incontri un Pokémon selvatico Non ci combatti Subito lo catturi Come lanciando la Pokéball Ma questa cosa potreste anche dire Ma vabbè ma è bella In Pokémon Go tu lanci la Pokéball È un gioco per cellulare Spero che lo conosciate Perché è bello famoso Tu lanci la Pokéball Devi centrare il Pokémon E se lo centri Con le condizioni giuste Lo catturi Vero Qui No Qui Qui Qualsiasi cosa tu faccia Farai sempre centro Perché Sì Sì tu hai i giocatori in mano E per lanciare la Pokéball Devi solo lanciarli Ma o comunque Nei lanci Tu puoi lanciarli anche Nella direzione opposta E beccheranno sempre il Pokémon Perché il lancio è automatico Quindi se premia Stesso risultato Il lancio è quello E fa sempre centro Ma non finisce qui Non finisce qui Sì che fa sempre centro Basta che tu non aspetti Che loro ti attacchino C'è un'animazione Che si ripete Non è neanche imprevedibile Si ripete In quel momento Non fa centro Fine Io ho provato in tutti i modi A sbagliarla Ve l'assicuro Non me l'ha mai sbagliata Non so come abbia fatto A sbagliare posizione di lancio Si deve essere impegnato parecchio Io usavo i Joy-Con liberi Per giocare Anche perché Ti basta un Joy-Con solo Tutto il gioco Si fa con un Joy-Con solo Che è un'altra cosa Che io non ho capito Perché mi ha messo tutti i tasti Su un solo Joy-Con Cioè in realtà l'ho capito Per vendermi la Pokéball Però vaffanculo Ma non finisce qui Non finisce qui C'è ancora altro Che non va Il tuo Pikachu È la creatura più potente Che si sia mai vista Sulla faccia della Terra Puoi imparare mosse Di qualsiasi tipo Puoi imparare tutte le MN Puoi imparare mosse Di ogni tipo Super efficace Anzi Nella prima palestra Nemmeno ti è permesso Entrare se non catturi Un Pokémon super efficace Prima Qualcuno potrebbe anche dire Aspetta Io mi ricordo che Quando arrivavo Alla prima palestra di Brock Non potevi avere Un Pokémon super efficace Perché i Selvatici Si trovavano solo Mankey Nidoran Caterpie Pidgee E Whittle Quindi E Rattata Non c'erano altri Pokémon Erano questi sei Ma nessuno di loro Super efficace Mankey potrebbe essere Super efficace Ma dovresti allenarlo Davvero tantissimo Qui visto che Avevano paura Che i bambini Potessero perdere Hanno inserito Oddish 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 Per assicurarsi Che tu sia super efficace Ma non solo Le intelligenze artificiali Sono pensate Per farti vincere Io contro Erika A un certo punto Ho detto Ma proviamo a vedere Che cosa succede Se uso solamente Mosse di Stato Lei ha iniziato A usare solo Mosse di Stato Ok Per farmi vincere Il tutto tra l'altro Giustificato di merda Quindi Pikachu Do non può volare Perché? Perché si dica Un palloncino Pikachu può spostare Le rocce pesanti Perché si fa forza Letteralmente Si fa forza Non è un Pokémon Molto forte Che vuole alzare cose pesanti Si fa forza Ragazzi Sto gioco Ha tutto che non va C'era una sola cosa Che ci rendeva entusiasti Quando abbiamo scoperto Di questo gioco Che era il fatto Che tu potevi farti Seguire i tuoi Pokémon Che era una vecchia meccanica Che era stata inserita In Argold e SoulSilver Ma poi era stata rimossa Era apparsa solo In Argold e SoulSilver Tutti la stavano aspettando L'hanno rimessa Sì Ma Primo Se il Pokémon lo cavalchi In metà regione Non ci passi Perché hanno costruito Percorsi troppo stretti Casualmente Non era previsto E quindi resti incastrato Quando cavalchi un Pokémon Resti continuamente incastrato In spazi in cui non ci passi Quando voli In groppa un Pokémon Non puoi oltrepassare Cose più basse di te Dipende Ci sono alcune rocce Alcuni passaggi Che tu non puoi superare Nonostante tu stia volando E non finisce qui No Solo i Pokémon Si incastravano E tutto il resto Tu potevi praticamente Cavalcarli E verli dietro In un 2% Della regione Ma per di più Per di più Avevano intelligenze artificiali stupide Alcuni Pokémon Come va il Plume Non riescono a seguirti Camminano troppo lentamente Quindi Finiscono fuori schermo Dopo 4 passi E non li vedi più E devono respawnare O altri Pokémon ancora Restano incastrati Nelle rocce Perché non riescono a orientarsi Perché la loro intelligenza artificiale Non è abbastanza forte E comunque Parlando di censura Io ho fatto un esempio di censura Ma non è mica l'unica Hanno censurato questo gioco Anche in altri modi Il vecchietto che sbirciava Nella palestra di Erika D'ora in poi Dice solamente Oh qui dentro Ci sono allenatori molto forti Ma tu non stavi sbirciando Le ragazzine L'ultima volta? Cioè davvero Terribile Terribile In tutti i giochi C'è un po' Questa tendenza A semplificare Sole Luna Nonostante io l'abbia messa in alto Io ho odiato Che fossero sub binari Proprio Sole Luna Ti dice No adesso vai di qua No di lì ti perderesti Quindi te lo blocchiamo Con le transenne Né così sicuro Non ci vai Quando sono arrivati A Let's Go Pikachu Secondo me Ho raggiunto proprio L'apice del semplificare Era troppo oltre Già io non sopporto Che mi curino i Pokémon Ogni 5 secondi Così a cavolo Tutte le volte Che rischio di perdere Mi danno una manina Mi regalano oggetti Mi regalan di tutto Per cercare di darmi una mano A non perdere Ma in Let's Go Pikachu E in Let's Go TV Era peggio Quando tu sconfiggevi Gli avversari Non solo ti davano i soldi Ma ti regalavano pure oggetti Hanno abbassato il prezzo Di tutti gli oggetti Per permetterti Di comprarne di più E hanno aumentato La quantità dei soldi Che ricevi Per assicurarsi Che tu potessi Permetterti infiniti oggetti Ti hanno messo Il box in tasca In modo che tu potessi Tirare fuori i Pokémon Tutte le volte che volevi Per catturare l'infinito Cioè Dio mio È tremendo È tremendo Let's Go Se hai massimo 6 anni Perfetto Sì ok ma vaffanculo Anche un bambino di 6 anni A un certo punto S'annoia Se il gioco Non ti offre niente Niente Bene Procediamo Prossimi giochi Tocca a scarlatta Tocca a spada e scudo Allora Sì Spada e scudo per me sono ok Spada e scudo per me sono ok Non sono perfetti Assolutamente Non sono perfetti Hanno Una regione un po' Guardatela Guardatela Cioè Sta regione Secondo me l'han gestita Davvero male Davvero Davvero male Perché a livello di disegni È perfetta Ecco qui Tra l'altro avete proprio La mappa completa È l'Inghilterra Si parte dalla Scozia Qui in cima Si scende per tutta l'Inghilterra Qui si allarga un po' poco Rispetto alla vera Inghilterra Ma lo posso accettare Questa è l'isola di Man Che però è ingrandita Per farvelo vedere Ora Come funziona questa regione È un po' troppo verticale Sì ma il problema è un altro Che quest'area Quest'area È libera Tutto il resto È fatto di percorsi Subbinari Piccolissimi Che tu non esplorerai Non esplorerai mai più In tutta la tua vita Perché sono talmente piccoli E autoreferenziali Che sono praticamente Due cerchi Un cerchio qui E un cerchio qui Ci passerai una sola volta E sono praticamente Solo per fare un giretto Come se tu fossi Su quei carrelli Di Gardaland Per fare una dark ride E Tu potessi solo Guardarti in giro E dire Oh che bello ambiente Però non lo vivi Non lo vivi I personaggi Sono designati da Dio Cioè ragazzi I personaggi Sono davvero Designati da Dio Guardate Poppy Guardate la Perfezione Infinita di Poppy È perfetta È perfetta Poppy È bellissima Ci sono tantissimi Personaggi Che sono designati Molto bene E il gioco È estremamente inglese Sa proprio di British Hanno fatto Tutta una serie Di cazzate Come appunto Per corse di merda O Che cos'è Londra Ma Londra Mi hanno fatto Londra Nel gioco Ma è minuscola Vi giuro è minuscola È più piccola Di Ferrogipoli Ferrogipoli era vista Come una città piccola Abbiamo avuto Grandissime città Come Osaka Fiorotropoli Come Luminopoli Parigi Come Austropoli New York Come Come dire Si chiama Mesapoli Che è Madrid Barra Barcellona Barra Lisbona Hanno unito Queste tre città Però Hanno fatto spesso Grande città Madrid Me l'han fatta Bella grandicella Goldwick Ovvero Londra È tremenda Londra L'han fatta malissimo Poi Ci sono un sacco Di citazioni Molto belle Ambientazioni Molto belle È una delle regioni Che mi sono divertito Di più A farci un video Proprio esplorando La regione Ma Una mezza Insoddisfazione Perché è come se fosse Un gioco mutilato Ha gli stessi problemi Di XY Cercando però Quanto meno Di inserire un Are open world Cercando di salvarsi Con i DLC E con quanto meno Un Un lavoro artistico Di Il direttore artistico Qui ha fatto un buon lavoro Quanto meno Ok Quanto meno Ha fatto questo Però Se dobbiamo parlare Nel livello oggettivo Hanno pubblicato Un gioco Che era impubblicabile Non era pronto Non era pronto Per uscire Letteralmente Ci voleva ancora Un bel po' di lavoro Servivano Delle attività secondarie Serviva a mettere Mi dell'altro In sto gioco Perché è vuoto Io non posso Pagarti un DLC Per ottenere Un'espansione Di un gioco Che da solo Non è sufficiente Dio mio E comunque Hop è fastidiosissimo Dopo di questi Hanno deciso Di pubblicare Come nuovi giochi I successivi Di ottava generazione Ovvero Diamante lucente Perla sprendente Anche se C'è un notevolissimo Miglioramento Grafico Secondo me Diamante lucente Perla sprendente Sono alla stessa altezza Di diamante perla Mi spiace Non sono riusciti A sfruttare davvero Al massimo Diamante perla È una copia Paro paro Hanno però Tolto un paio di cose A cui tenevo molto Tra cui per esempio Le basi segrete Togliermi le basi segrete È stato un errore Cioè Togliermi le basi segrete È stato un errore È perfettamente identico A diamante perla Molto fedele Quindi mantiene Tutti i pregi E tutti i difetti Mancano le basi segrete Però in compenso Mi hanno messo Un'ottima Ottima grafica Cioè qui L'acqua è perfetta Altro che Giochi Pokémon Sviluppati dalla serie principale Neanche a me sono piaciuti I cibi nell'overworld Però capisco anche che Se vuoi emulare Qualcosa di 2D Lo posso accettare Lo posso accettare Ok Secondo me Anche secondo me Valgono meno Di diamante perla Ma non sono Così diversi Come lo sono Questi giochi Cioè Non scendono Secondo me Nella tier Sono più o meno Sullo stesso livello A livello Di miei gusti Stessa cosa Cioè Non sono Ingiocabili Però Al tempo stesso La regione italiana Non c'è ancora Stata Però Hanno fatto La città di Venezia Nel Crattone animato L'hanno fatta Si chiama Alto mare E tutti Speravamo Infatti che Prima o poi Avrebbero fatto Qualcosa Basato Eccola È proprio Venezia E L'hanno fatta Molto bene Tra l'altro È molto interessante Molto immersiva È un ambiente Delizioso Ricorda Perfettamente Venezia Hanno inventato Un da loro A tema Pokemon Cosa No aspetta Che cosa Scusatemi Cosa sto guardando Hanno fatto Un remake Di alto mare No ragazzi Sul serio È chiaramente È stata ridisegnata Si vede Che questo Non è disegnato A mano Ma è disegnato A computer Nel senso che Ovvio Anche questa L'ha fatta Parzialmente Al computer Però gli uccelli Sono disegnati A mano Tant'è vero Che hanno i tratti Di matita Troppo grossi Nella nuova serie Che è finita È ricomparsa Alto mare State scherzando State scherzando È apparsa Alto mare Alto mare Non appariva Dal 2001 2002 Ma questa È un'immagine Nuova Oh Sì Prima che qualcuno Reste sconvolto Si chiama Alto mare Anche in originale Si chiama davvero Alto mare Persino in giapponese Si chiama Alto mare Queste sono Immagini nuove Che chiama davvero Il 17 marzo, pochi giorni fa, è uscito un episodio in Giappone in cui Latias ha dei flashback di quando ha incontrato l'ascia d'alto mare. Chi lo sapeva? Oh mio Dio! Pazzesco! Pazzesco, rieppar salto mare! Ti sei perso che abbiamo scoperto che è ricomparsa l'alto mare? Comunque sì, l'alto mare ricambiava anche la storia di Latias e Latias al posto del Leone di San Marco, cioè è una cosa pazzesca però. Mamma mia! Non ci credo! Mamma mia! Ok, tocca a Legenda Archeus, è il prossimo. Allora, sono in difficoltà. Mi dice ringrazio il vero chi, perché? Che ha fatto il vero chi? Mi ero distratto? Ah, perché, oh sì, è il vero chi, giustamente. Mi spiace, grazie mille per avermi fatto scoprire questa cosa, non la sapevo. Giustamente, devo ringraziarti, hai ragione, pensavo ti fossi abbonato a altro. Allora, Archeus ha un problema. Domanda, alla fine la ragazza che bacia a Asha ad alto mare era un Pokémon trasformato? Sì, ma non ti preoccupare, Asha ha avuto un altro primo bacio ancora più interessante. Allora, il problema di Legenda Archeus è che da un lato è lassù, dall'altro è laggiù. Allora, questo è Legenda Archeus. È un gioco particolarissimo. In questo gioco ci troviamo nella regione di Sinno, quella che vi ho già fatto vedere che era tutta montagna, ed è ancora parecchio montagna, ma... ma... Siamo nel passato. Il gioco è ambientato nel passato centinaia di anni fa. e... nel suo essere ambientato centinaia di anni fa, propone tutta una serie di cose sconvolgenti. No, il primo bacio non l'ho avuto da Misty, mi spiace. Ora... che ha di speciale... per la qualità del gameplay è divertentissimo. Questo è uno dei pochissimi giochi Pokémon, forse il primo gioco Pokémon di sempre ad essere fottutamente divertente da giocare. davvero è divertente. È esilarante. È esilarante. ti beccare, però puoi farli arrabbiare, però puoi indebolirli, però puoi stancarli, però puoi farti inseguire, metterli in trappola... ci sono mille modi in cui puoi catturare Pokémon, li puoi distrarre con del cibo, puoi fare di tutto! E loro sono tutti quanti disegnati come se fossero usciti da una stampa giapponese del Settecento. E ogni Pokémon ha il suo spazio personale. Ogni Pokémon ha il suo spazio personale. Mamma mia! Praticamente ogni singolo Pokémon che appare ti racconta una storia. C'è sempre una missione secondaria che ti dice Oh, io ho visto questo Pokémon fare questa cosa e tu lo scopri, te lo segni sul Pokédex, tu a mano scrivendolo. E pian piano insegna alle persone che cosa sono, le cose che hai scoperto sui Pokémon. E se negli altri giochi, se un Pokémon non lo catturi, non scoprirai mai niente su di lui, o scoprirai al massimo qualcosa nel Pokédex, qui lo fanno! I cleferi danzano alla luce lunare! I Pokémon che si muovono in gruppo si muovono in gruppo, quelli che si muovono da soli sono solitari. Quelli che puntano sempre verso Nord, come Nospaz, puntano sempre verso Nord, sempre il naso che punta verso Nord e devi sforzarti per farli girare. In tutto ciò hanno preso tutta quanta la lore che c'era in diamante per lei, Platino. Hanno ottenuto tantissimo conto di Platino e della storia di Platino e l'hanno portata all'estremo. Hanno esagerato tantissimo trasformando la trama di Platino in una trama ancora più interessante, aggiungendo tantissimi dettagli di loro, insegnandoci tantissimo sul mondo Pokémon. fantastico, fantastico! Ma... La regione è imbarazzante. Cioè, davvero, hanno letteralmente creato un quadrato e poi hanno detto Boh! Montagna qui! Qui c'è un po' di vuoto! Alberi! Qui c'è un altro po' di vuoto! Alberi! Qui potrebbe starci qualcosa... Fiumiciattolo! Hanno riempito la regione malissimo. Sembra proprio una cosa alla rinfusa. Di solito sono molto immersive. Tu all'interno della regione ti rendi conto di creare mille atmosfere e situazioni diverse in cui percepisci di essere in uno spazio diverso semplicemente grazie a... No. Graficamente è Zelda fake. Sì, ma Zelda era su un altro livello. Cioè... Guardiamo Breath of the Wild. Breath of the Wild è un gioco per la stessa console uscito però parecchi anni prima. A parte la grafica! Che... Porca puttana! È il normalissimo gioco questo. Non è una cazzino roba del genere. Il gioco è letteralmente così. Questa è la grafica del gioco. È perfetta. Perfetta. Io non vedo l'ora di vedere il sequel che esce tra poco perché... Boh! Ora, quando tu esploravi il mondo all'interno di questo gioco ogni volta avevi una percezione diversa. Perché il fatto che tu vedessi lo stesso ambiente da un punto di vista diverso, grazie a come erano formate le rocce eccetera, creava un'atmosfera diversa. Quindi ti sembrava di immergerti negli ambienti e di farne parte sempre di più. Perché ogni discesa non era mai una discesa e basta vuota. C'era sempre qualcosa in più. C'era sempre una forma complessa per fare in modo che ci fosse sempre un avvallamento specifico come lo è nel mondo reale che potesse rendere il gioco unico. Qui è... Un tappeto. Un tappeto. È un cazzo di tappeto. Ma non finisce lì la trama. Ma potete dirmi che bella quanto volete la trama. Ma è... gestita di merda. Cioè la storia è proprio... raccontata malissimo. La prima sequenza di gioco solamente prima che tu possa scoprire come funziona il gioco e possa finire il tutorial è infinita. Va avanti per ore. Non si ferma più. È una cosa pesante. Lunga. Tremenda. Cioè... Quindi che si fa con Arceus? Direi buon gioco. Anche per la mia opinione personale. Più o meno siamo lì. Perché... Tutto quello che fa... Sottolinea solamente quanto potesse essere fatto meglio. Legenda Arceus è stato un ottimo gioco Pokémon come non ne capitavano da Ultrasoul e Ultraluna. Cioè sono stati la salvezza dell'ottava e nonna generazione per ora. Oggi sono scarlato e violetto. E sono generoso a metterli qui. Sono generoso. Semplicemente perché hanno deciso di trattare alcuni temi un pochetto più scottanti come il bullismo. Però la scuola non esplorabile. La mappa ha gestita malissimo. Hanno fatto un passettino in più rispetto alla mappa di Arceus. Ma hanno fatto un enorme, giganteschi balzi indietro per i Pokémon. Eh già, sono già le 23.30. È passata velocissima. Eh, vi ho tenuti per due ore e mezza di live senza farvi pesare un secondo, vero? Vi prego, ditemi che è vero che io... Dispiaciuto altrimenti. Gli NPC che non parlano, cioè... Ci sono alcuni dettagli qua e là che effettivamente sono anche carini. Sono anche tutto sommato carini. Ma non... Non bastano giustificare il gioco. Tutti questi giochi che stanno in questa zona hanno delle cosette carine. Eppure Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee hanno robetta carina. Ma non basta per risollevarlo. Non basta. Questo è un gioco che non andava pubblicato ancora. E scoprire che il DLC sarà ambientato in fottutissimo Giappone... Mi ha infastidito il doppio. Cioè, voi avete la Spagna. Potete fare un DLC su Andorra, sulla Francia, sulle Baleari, sul Marocco... Sulle Canarie. Io mi aspettavo tantissimo una cosetta sulle Canarie perché... Tenerife è letteralmente un'isola di Pokémon. È perfetta per farci un Pokémon. E invece... E invece l'hanno ambientato in fottutissimo Giappone. E la seconda parte del DLC in mezzo al mare su un'isola di plastica. Non di plastica come l'isola di plastica che ti immagini tipo Greta Thunberg. No, no, no. L'isola di merda fatta in CGI brutta in mezzo al mare che è un'altra scuola. Ma vaffanculo. Ma l'Italia non può essere per un DLC. L'Italia deve avere il suo gioco. E io sono felicissimo che la nonna generazione non abbia scelto l'Italia perché io voglio che verso la dodicesima generazione, quando si saranno un attimino riprese un po' di sal in zucca, scelgano l'Italia e la facciano bene. Perché se io fossi spagnolo sarei offeso da come hanno fatto la Spagna. Tu non puoi unirmi Barcellona, Madrid e Lisbona in una sola città. Soprattutto perché alla fine di Lisbona è rimasto pochissimo. Sono rimasti un paio di piastrelle del bagno appese a qualche parete e basta. E non c'è nient'altro di ciò che c'è di importante a Lisbona. Di... Sì, a Lisbona. Di Barcellona hanno mantenuto solamente la scuola che però non è visitabile. Vaffanculo. È solamente estetica. E il resto è tutto quanto Madrid. Eh no. Eh no. Eh no. E poi la Spagna non le somiglia nemmeno. Ma chi cazzo è sta roba? Cioè... Io quando l'ho vista la prima volta mi sono detto dai ci sta. Ma sapete perché io non ho ancora fatto un video su Paldea? Per chi mi segue da poco, io è dal 2014 che faccio uscire un video su ogni regione Pokémon mostrando come è simile alla controparte reale. Ho fatto il Kanto, ho fatto il Chubo, ho fatto Kyushu, ho fatto Hokkaido, ho fatto Manhattan, ho fatto la Francia, ho fatto gli Hawaii, mi ci sono divertito da morire perché erano fottutamente identiche, ho fatto Galar, mi ci sono divertito da morire perché era fottutamente identica all'Inghilterra, e poi è uscita sta merda. Io ho iniziato a fare sta cosa, ci ho provato, ma non c'entra un cazzo, non è neanche lontanamente somigliante. Giotto è il Chubo, il Chubo occidentale. Vedi? Questa. Chubo occidentale. E Giotto. Sorpresa. L'unica regione che ha mantenuto il suo nome è Kanto, eh. La regione di Kanto si chiama Kanto ed è fottutamente Kanto. Anche io l'ho sempre pronunciata Yoto, ma poi la gente ha iniziato a dire Hoene è ispirata a Kyushu, quest'altra isola. È un'altra isola del Giappone. Il Giappone è composto da un arcipelago di tipo 1800 isole. Una delle isole è Kyushu, che è questa. Questa qui in fondo. Tant'è vero che questo che vedi qui è il Monte Pira. Queste non credo siano le cascate meteora, credo che siano solo cascate famose, perché le cascate meteora mi ricordo che non le avevo trovate. Però sì, ecco... Questo è il Kyushu. E questa la riconoscete perché è facilissima da riconoscere. Kyushu quantomeno è stata girata, perché la regione di Hyun è tramettino orizzontale, ma nel mondo reale in realtà è verticale. Ma Hokkaido è facile. Hokkaido la riconosce perché è identica a Sinnoh. Sinnoh proprio non l'hanno modificata neanche un po'. E questa è la Spagna, ma vi rendete conto? Qui ci sarebbe la Francia. E la Francia l'abbiamo già avuta, tra l'altro. Eh no, eh no. Ci sono un paio di cosette belle nel gioco? Sì, ma un paio di cosette. Un paio di cosette non bastano a giustificare un gioco che alla fine fa cagare. E mi dispiace che faccia cagare, ma... non ha neanche provato ad immergerti. Non c'è neanche provato. Ci sono un paio di elementi carini, ma non bastano. E sto buco al centro mi dà un fastidio pazzesco. Non perché è un buco, perché in realtà ci può anche stare. È anche bellino a vedersi il fatto che ci sia questo spazio al centro. Mi dà fastidio, perché ha fatto in modo che la regione, praticamente, fosse una ciambella. finendo per trasformare quella che doveva essere la Spagna in... una cosa tremenda. Non vale 60 euro, come dite voi. Secondo te si riprenderanno mai da Game Freak? Ma secondo me non hanno proprio capito come funziona un gioco. Non lo hanno capito. Comunque sì, sono abbastanza... onestamente sicuro di come ho gestito la cosa. Vi ricordo che questa è quella oggettiva o obiettiva comunque, mentre questa è quella mia personale. E beh, che dire... Non sorprende che la maggior parte dei giochi sia standard. e penso di concludere la live. Anzi, anzi... Prima di concludere la live facciamo un raid a qualcuno. Vi prego, fatemi fare bella figura con i raid. Siete pochini stasera, ma... Ce la possiamo cavare. Se partecipate in tanti, mi fate fare bella figura e fate un bel regalo alla persona che vi riceve, ok? Mi chiedete la prossima Nazloc. La prossima Nazloc, sapete già che avevo promesso a Smeraldo, quindi sarà Smeraldo. Più che altro, il problema è un altro. Ovvero... Non so ancora quando. Ok. Preparo il raid. Voi non avete ancora riscattato nessun raid? No? Perfetto. E allora... Vai con il raid a Sabaku. Che almeno lo facciamo arrivare a 2.000 spettatori. Tanto non vi ho mai mandati da Sabaku. Comunque credo che Sabaku non sia nella mia agenzia. Però sì... L'ho incontrato dal vivo... Più volte... Ma non ci siamo mai parlati. Per ora non è successo. Ciao ciao ragazzi! Per quello che abbiamo visto... Noi...